Buonasera a tutti, dopo la festa cerchiamo di riprenderci, di entrare nel ruolo che ci competa, abbiamo già fatto questa prima, speriamo di continuare a farla, e se siamo d'accordo tutti possiamo andare all'inizio con l'esercitore dell'indonazione a domanda, grazie. 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 Per motivi istituzionali, quindi arriverà più tardi, perché all'assemblea annuale dell'istituto, l'approvazione del bilancio della provincia di Cuneo. L'assessore Cravero non è ancora presente, l'assessore arriverà più tardi, Fogliato è presente, Messa è presente, Scrutatori, se sono d'accordo, i consiglieri, Ambrogio, Isu, Isu, Somaglia. Grazie. Lascio la parola al sindaco per alcune comunicazioni. Sono poche le comunicazioni, anche perché l'ultimo consiglio comunale è avvenuto da poco tempo, abbiamo da segnalare alcuni lutti, è mancata da pochi giorni la mamma della nostra dipendente, Cristina Di Laghi, dipendente della biblioteca, la signora Widman Leopoldin. Ieri sera è mancato uno dei componenti del direttivo della Scuola di Pace, Piero Sampo, e questa notizia ci ha veramente messi, ci ha colpiti veramente molto duramente dal momento che al di là dell'impegno relativamente al sociale, all'impegno precedente nel sindacato, Piero Sampo ha svolto varie attività di volontariato. Vorrei ricordare anche la scomparsa improvvisa del signor Faino, siamo vicini a Francesca e a tutta la famiglia, si tratta di una persona con cui interlocuciamo, di low care, con cui il tesoriere di low care, con cui avevamo momenti di interlocuzione. tra l'altro componente dei carabinieri in Consiglio. Grazie al sindaco, mi associo anche io personalmente al cordoglio per queste persone che sono scomparse in questi giorni e in queste ore. Se non ci sono comunicazioni, partiamo con l'ordine del giorno. Consigliere Maju, prego. Grazie Presidente, anch'io mi associo alle condoglianze ed è sempre molto difficile parlare dopo aver udito notizie simili. Condoglianze vivissime tutte le famiglie, tutte le persone che conoscevano di persona, le persone che il sindaco ha nominato. In realtà la comunicazione volevo farla su un tema. Qualche giorno fa, a livello internazionale, si è arrivato a un accordo importantissimo sul tema ambientale, sul tema ambientale che vede l'accordo portare al bando totale da qui fino al 2021 di tantissimi elementi di plastica, monouso, che sappiamo essere tra il 70 e l'80% del principale inquinamento degli oceani. E visto che il tema ambientale è sempre stato un fenomeno molto importante, al quale anche l'amministrazione ha sempre tenuto in considerazione, sia per quanto riguarda i polveri sottili, sia nella raccolta differenziata, io oggi prendo parola per chiedere all'amministrazione comunale, ma adesso lo faccio come comunicazione, poi magari lo farò con emozione se necessario, di prendere assolutamente posizione sul fatto che siamo in inverno e tanti negozi lasciano le porte completamente spalancate. Questo è un insulto a chiunque combatte per un ambiente più pulito. Va in direzione completamente opposta a tutti gli sforzi che tutti gli amministratori qui dentro l'hanno fatto in questi anni e secondo me non può il marketing, in questo caso perché è una strategia di vendita, il fatto di tenere le porte aperte, avere degli effetti negativi su tutta la cittadinanza. In alcune città hanno provveduto a sanzionare i negozi che tenevano aperti. Io mi auguro davvero che si possa prendere la posizione su questo. Ieri, passando davanti a Via Vittorio, c'erano 5 o 6 i negozi con le porte completamente spalancate con un'aria da estate che usciva dalle loro porte. Questo non ha senso. Grazie. Grazie al consigliere Amagiù. Prima di dare la parola al consigliere Elena, volevo solo ricordare che in questi minuti a Trento si stanno svolgendo i funerali del nostro concittadino morto a Strasburgo l'11 dicembre, Antonio Megalizzi. Penso che possiamo tutti essere d'accordo nell'unirci al cordoglio della nazione in questa ennesima persona, un altro nostro concittadino che perde la vita a causa della violenza che ha insanguinato ormai molti anni la nostra Europa, il nostro continente che dovrebbe essere esempio di cultura e di tolleranza e di rispetto. Quindi ci stringiamo anche noi idealmente alla comunità nazionale e in particolare ai suoi genitori e ai suoi familiari, quelli che hanno apprezzato in lui il giovane studioso, il ricercatore e l'europeista convinto, appassionato dei valori dell'unità dell'Unione europea. Prego, consigliere Elena. Ah, l'ho anticipata? Allora, a maggior ragione mi fa piacere che siamo in sintonia. Grazie. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Anche noi volevamo unirci alle parole di cordoglio per le persone che sono venute a mancare in questi giorni e per ultimo per questo ragazzo Antonio Megalizzi che è mancato a Strasburgo in questa tragedia. Volevamo chiedere che oltre ad un pensiero diciamo potevamo anche un attimino fermare proprio tutta quanta la sala per un minuto di silenzio, visto e considerato che è un giovane ragazzo dal pensiero europeista, questo ci hanno descritto, un ragazzo dove si è visto togliere il proprio futuro da comportamenti e atti meschini dove tutti noi dobbiamo assolutamente denunciare e fare in modo che queste cose non avvengano più. Quindi chiedo che tutta la sala si possa riunire in un attimo di silenzio. Un minuto, grazie. Sì, penso che sia contata la risposta che possiamo dare alla proposta del Consigliere Tripodi, che ringrazio personalmente, sono d'accordo, quindi invito il Consiglio e i presenti ad alzarsi e osservare un minuto di silenzio. Grazie. 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 No, è andata via la mano. Molto bene. 17 prenotati, diciamo così, 17 votanti. Quindi possiamo non appena... Ecco, grazie. Votazione chiusa, approvati all'unanimità. Passiamo al punto 3. Piano regolatore dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni, variante numero 8, variante ricognitiva e revisione degli spazi cimiteriali senza ampliamento, approvazione. Illustra l'assessore Messa. Sì, in merito alla delibera che viene proposta, mi leggo qual è stato un po' lo scopo di questo lavoro. Si è ritenuto necessario procedere alla redazione di una nuova variante del piano regolatore cimiteriale del Comune di Brà, al fine di consentire l'adeguamento del vigente piano regolatore comunale sia alla situazione di fatto, attraverso una ricognizione sulle precedenti varianti ed il conseguente aggiornamento e coordinamento della documentazione del piano, sia alla normativa di settore, ma anche per rispondere all'evoluzione demografica e dalle esigenze di sepoltura della popolazione locale, perseguendo la programmazione di spazi cimiteriali attraverso la verifica e l'ottimizzazione degli stessi, in maniera tale da essere in grado di organizzare l'attività di sepoltura nei prossimi dieci anni. Il lavoro è stato molto attento, molto puntuale, un lavoro anche in qualche modo specifico di settore. Permettetemi in questa occasione di ringraziare il proficuo lavoro dell'architetto Ciceri, dirigente dei lavori pubblici del geometra Saglia, dei tecnici Grandin e Badellino, dell'architetto Prato, consulente esterno di Fossano, il fondamentale aiuto degli uffici urbanistica e dei servizi demografici. La materia è stata anche già discussa in data 15 novembre 2018 delle commissioni congiunte, polizia mortuaria e lavori pubblici, in questo caso ringrazio i due presidenti. In quell'occasione si è entrato anche nel dettaglio una normativa molto specifica, c'è stata anche possibilità di confronto con gli estensori del piano. Fortunatamente ci troviamo nella condizione di avere tre cimiteri, quello urbano e due di frazione, che anche grazie alla programmazione delle varie amministrazioni che si sono susseguiti, presentano una situazione buona dal punto di vista programmatico e quindi per almeno i prossimi dieci anni è garantito il servizio di sepoltura e ci sono anche ampi margini di ampliamento in caso in cui ci fosse la necessità. l'architetto Ciceri, in caso di necessità su materie specifiche, è presente qui in consiglio per ulteriori dettagli, per amorestando che ricordo in qualche modo l'attenta e puntuale discussione fatta nella commissione del 15 novembre. Grazie. Grazie all'assessore. Aspettiamo interventi. Non vedo nessuna mano alzata, cioè è il caso di dire che c'è un silenzio cimiteriale. O di Tomo. Ah no, consigliere Panero, consigliere Panero. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma rapidamente appunto per argomentare su questa proposta di delibera che da cosa abbiamo compreso nella commissione dei lavori pubblici del 15 novembre dove si è discussa, diciamo che è più una revisione generale che una variante al piano regolatore cimiteriale. una variazione che mette, diciamo, un po' il punto e fa soprattutto, digitalizza la nuova cartografia che era solo cartacea e soprattutto che aveva subito sette varianti dall'anno 2000 e quindi in un certo senso il lavoro primo, il lavoro più importante, come ci è stato detto e spiegato, è stato appunto raccogliere tutta la documentazione che dal 2000 ad oggi ha variato con diverse varianti o comunque a diverso titolo la cartografia del BRC una revisione che anche la legge dice che va fatta ogni cinque anni e quindi ci troviamo a dire, a approvare questa proposta come una revisione generale. Quindi prendiamo in considerazione, questo ne abbiamo anche discusso nella commissione, la norma, diciamo, il DPR 285 dell'anno 90, una norma un po' datata che forse non prende in considerazione neanche l'altra percentuale di cremazioni che sono aumentate praticamente negli ultimi anni. Quindi anche i calcoli che sono stati fatti per della previsione dei prossimi dieci anni, come dice la normativa, forse sono ottimistici, nel senso che probabilmente siamo in una situazione migliorativa rispetto a quello che le relazioni allegate ci fanno capire. Tra l'altro in questa variazione vengono appunto create delle superfici per 133 metri quadrati per campi di inumazione, un'altra area di 162 metri quadrati di nuovo per i campi di inumazione, aree verdi per 570 metri quadrati, sepoltura in Colombari circa 320 posti salma, numero 2 ricovero attrezzi e modifica i locali di pertinenza alla camera mortuaria. Quindi sono apportate alcune modifiche, un nuovo spazio servizio igienico perimetrale. Quindi diciamo che arriviamo a mettere un punto, diciamo a fare un PRC 2.0, digitalizzando e raccogliendo un po' tutta quella che è la documentazione, quindi da questo punto possiamo dire di poter ripartire. Appunto, i calcoli indicati nella relazione dal tecnico che adesso, dall'architetto Elisabetta Prato, che è il tecnico esterno incaricato per realizzare questo progetto, secondo me sono ancora migliorativi. prendiamo atto che un'idea, il cimitero cittadino, quello centrale, è come limiti, ma è anche visivamente facile da preventivare, un po' esaurito. Quindi l'ampliamento di quel cimitero è, diciamo, difficile anche dal punto di vista tecnico, che i futuri, se necessari, ampliamenti del cimitero sono un po' tutti concentrati in quello che è l'area molto più vasta di quella attuale, che è del cimitero nella frazione di Bandito. Credo che, e per questo ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, che si sia lavorato bene e che il risultato sia un risultato ottimo e va nella direzione che tante volte come gruppo abbiamo richiesto, cioè della digitalizzazione degli archivi, della informatizzazione, anche per una maggior chiarezza e facilità di consultazione, di quelli che sono le cartografie, i regolamenti e i registri del Comune. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Allasia, prego. Grazie, Presidente. Innanzitutto, volevo scusarmi con chi ha fatto il lavoro, la predisposizione della variante, perché il lavoro, come testimoniato dai documenti che ci sono stati consegnati con l'ordine del giorno, sono estremamente corposi, cioè ci hanno elaborato importante, anzi più elaborati importanti da esaminare e almeno per me il singolo passaggio in commissione non è stato sufficiente, anche perché i documenti non erano a disposizione, per valutare nella sua compiutezza il lavoro svolto e quindi fare eventualmente delle considerazioni di merito che possono valere. Ritengo che questo passaggio, da cosa ho capito, dalle spiegazioni, sia un passaggio importante, perché è una risistemazione in sostanza, da un lato, e dall'altra una riorganizzazione, chiedo scusa, di tutte le varianti susseguitesi nel tempo e il percorso di digitalizzazione, come già si diceva. Però un paio di perplessità ce l'ho, perché in effetti, per quanto riguarda il cimitero urbano, viene stimata, con i metodi spiegati in commissione, una carenza di spazi per l'inumazione, che dovrebbe essere compensata da un aumento dell'utilizzo della cremazione. Però nella relazione è anche spiegato che non ci sono dati sulla cremazione. Tra l'altro, giustificandoli in modo un po' singolare, perché si dice, dato che il servizio è dato in concessione a un privato. Ritengo che questi dati qua siano interessanti e fondamentali da avere per la sorveglianza, anche dopo l'approvazione di questa variante, di qual è l'andamento, da un lato, delle cremazioni, e quindi capire quale può essere il trend prima della prossima revisione. È possibile quindi che ci siano delle criticità. C'è anche da considerare, da cosa ho capito, che il metodo previsto dalla legge per il calcolo del fabbisogno per i prossimi dieci anni parte da una media agli estremi del decimo anno a partire da oggi preso in considerazione ed è il primo. Quando è un metodo diciamo un po' approssimativo probabilmente perché in realtà quello che più forse può essere interessante è valutare un trend sia dell'andamento demografico che dell'andamento di conseguenza diciamo del coefficiente di mortalità. Però al di là di queste considerazioni direi anche di prima battuta in realtà come dicevo prima mi scuso perché non posso addentrarmi nella materia in modo più significativo e ritengo che qualche passaggio in più in commissione si sarebbe dovuto fare avendo la documentazione a disposizione soprattutto perché siamo in un consiglio estremamente affollato di proposte di delibera e penso che alla fine ci siano almeno 500 o 600 pagine in teoria da dover analizzare e questi documenti ci sono arrivati solo sei giorni fa per questo motivo quindi non darò voto favorevole a questa proposta di delibera ma mi asterrò grazie grazie a lei consigliere consigliere Ferrero prego solo per dichiarazione di voto e a nome della maggioranza esprimo parere favorevole alla proposta di deliberazione e colgo l'occasione per ringraziare tutti i tecnici che hanno elaborato questo corposo documento che noi siamo resi conto nella commissione congiunta che era un amore di lavoro veramente notevole e per questo li ringrazio a nome della maggioranza grazie grazie consigliere Ferrero consigliere Elena prego grazie presidente solo per anche noi come Forza Italia e Somalia per Bra per la dichiarazione di voto voteremo favorevolmente questa deriva mi associo a quanto ha detto già in precedenza il collega consigliere panero oltretutto ne approfitto per ringraziare l'ufficio lavori pubblici il dirigente Enrico Ciceri e tutti quei che hanno collaborato a stesura di questo che è stato effettivamente un lavoro penso molto corposo perché effettivamente va a mettere insieme tutte le varie varianti che sono succedute in questi anni quindi ritengo che sia stato fatto un lavoro ben fatto e quindi il nostro voto sarà favorevole grazie grazie a lei consigliere panero prego poi il sindaco sì grazie presidente penso che dal mio intervento si sia capito ma faccio l'espressione di voto che sarà un voto favorevole a questa proposta di delibera sì è vero la documentazione corposa è importante forse un po' per deformazione professionale sono abituato ad avere a che fare con piani regolatori cartografie quindi sono riuscito diciamo in un certo senso a comprendere quella che era la finalità e quello che volevamo sottolineare appunto che è una rivisitazione che ci permette di avere una documentazione che adesso sarà più facilmente usufruibile poi come tutti i piani regolatori che sono strumenti diciamo in movimento potranno essere potrà essere oggetto di successive varianti ma sicuramente con una cartografia digitalizzata una documentazione così facile accesso ma soprattutto un riassunto di quello che era successo fino diciamo ad oggi possiamo partire come appunto detto con un piano regolatore cimiteriale 2.0 e da qui possiamo poi discuterle e modificarlo come tutti gli strumenti urbanistici partono per una pianificazione ma poi si adegueranno a quelle che sono le necessità che nel corso degli anni possono cambiare quindi come gruppo esprimeremo un voto favorevole a questa proposta di delibera grazie grazie a lei la parola adesso al sindaco credo che sia stato fatto un lavoro molto importante giustamente il consigliere Panero diceva il piano regolatore grazie a tutti 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 sia un elemento che dal punto di vista culturale aiuta anche a fare delle scelte oltre che a mantenere un edificio e a migliorare la qualità dell'edificio, credo che ci sia anche un aspetto importante, che è quello che vi è un'area di inumazione nella quale è possibile la possibilità di ospitare persone di religioni diverse e credo che in questo momento occorra avere attenzione alle diverse realtà. Era uno degli elementi che avevamo posto e all'interno della struttura degli spazi di inumazione è possibile strutturare anche delle soluzioni che vanno in questa direzione. Grazie al signo. Fermo restando il mantenimento di un cimitero, che è cimitero generale e non specifico. Se non ci sono più interventi, metto in votazione la delibera. Quindi, segnaliamo la presenza, poi si voterà anche la D. Votazione chiusa, delibera approvata con 16 voti a favore e 1 astenuto. Passiamo, passiamo adesso alla immediata eseguibilità. Segnaliamo la presenza. Perché aspetto che arrivi la mano, a me arriva dopo. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa. Stesso risultato, 16 favorevoli e 1 astenuto. Passiamo alla proposta numero 4. Variante parziale numero 2 al piano regolatore generale comunale vigente, in senso dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677, successive modifiche integrazioni, adozione progetto preliminare di variante, comprensivo del documento tecnico per la verifica di assoggettabilità al VAS. Illustra il sindaco. Il mio sarà un intervento di tipo politico, dopodiché i tecnici hanno lavorato, perché questa delibera ha una componente fortemente tecnica. All'interno del programma di questa amministrazione vi era la scelta di spostare la scuola media più matti dall'attuale sito in cui è inserita. E, alla luce di questo, ci si è mossi. Intanto, per andare a cercare dei finanziamenti, perché costruire una scuola è un elemento molto importante, ma non è l'argomento di cui stiamo discutendo questa sera. Siamo andati ad esaminare in dettaglio i vari terreni che potevano ospitare questa nuova scuola. dopo un esame molto approfondito si è valutato di far cadere la propria attenzione su un'area che è sufficientemente centrale, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, in una zona che sappiamo avere problematiche di carattere di viabilità, ma proprio per questo ci siamo da subito posti, e magari su questo interverranno altri, ci siamo posti il problema di vedere l'aspetto relativo alla viabilità, al contorno di questa nuova scuola. Si tratta del recupero di un'area molto vicina al centro città, recupero, una riqualificazione urbana, un processo che credo potrebbe essere inserito nell'ambito dei progetti di rigenerazione degli spazi della nostra città, a fronte di un'area che non è più utilizzata dalle ferrovie, non avendo più tutto lo svolgimento di un traffico che utilizzava il non elettrico. Sulla base di questo si è aperta una trattativa molto intensa, molto complessa con RFI, anche perché voi sapete che le ferrovie hanno frequentemente, cambiano frequentemente nome, società passano, vengono, e quindi abbiamo in questi anni avuto soprattutto con il consigliere Ferrero che ringrazio, contatti, ovviamente con i tecnici, contatti con le diverse strutture di ferrovie dello Stato, perché siamo partiti da ferrovie dello Stato e poi ha cambiato più volte nome per arrivare ad RFI. Abbiamo individuato un'area che, al di là delle dimensioni che possono ospitare una scuola, una scuola ovviamente che deve avere la caratteristica di una scuola ad avanguardia che permetta la possibilità dell'utilizzo del tempo scuola e della scuola aperta tutta la giornata, nel senso che al mattino è utilizzata per l'insegnamento, al pomeriggio può essere utilizzata per attività diverse dall'aspetto che è un istituto musicale, al fatto che ci sono delle diverse attività, peraltro è molto vicina alla biblioteca, molto vicina alla mensa, molto vicina ad impiantistiche sportive importanti e quindi direi anche facilmente raggiungibili da ragazzi di 11-14 anni. L'idea quindi che questa sera è orgogliosamente di presentare il primo passaggio che deve essere fatto, in realtà c'è un passaggio di sapere di avere il finanziamento per poter intervenire, l'altro passaggio è la modifica della destinazione dell'urbanistica dell'area in modo tale da renderla adeguata ad ospitare questo manufatto che, credo, ovviamente oggi non ha ancora assolutamente una forma e ha un dimensionamento, il dimensionamento è rispetto all'attuale scuola media con un dimensionamento anche leggermente più ampio, ben sapendo che andiamo incontro però ad un periodo, dal punto di vista demografico, di diminuzione della natalità. però sarebbe stato insensato ricostruire una scuola che avesse lo stesso numero di posti rispetto all'attuale scuola che si intende sostituire. credo che da questo punto di vista quindi si è fatto un lavoro dal punto di vista urbanistico e ovviamente su questo l'ingegner Sandrone piuttosto che l'architetto Regnero eventualmente interverranno si è prestato attenzione a tutti gli aspetti che caratterizzano una variante ci si è messi nelle condizioni di avere la disponibilità molto vicino al centro di un'area riqualificata bella con del verde con uno spazio molto ampio perché siamo riusciti nelle trattative rispetto ai metri quadri che servono per la costruzione specifica della scuola ad avere un numero di metri quadri superiore che permettono un parcheggio di oltre cento posti auto poi anche questo è un elemento che andrà dettagliato nel momento in cui viene presentato il progetto però penso che il progetto nel senso che ci sarà il bando per la progettazione e poi la progettazione complessiva sia della scuola e sia della di abilità di accesso alla scuola stessa quindi in questo senso la la delibera che arriva questa sera è una delibera che ci permette di aprire un processo durante il quale ci saranno delle fasi in cui è possibile vedere ancora singoli aspetti magari di osservazioni su aspetti specifici che riteniamo di dettaglio di non di che servono proprio nella procedura così come è immaginata e l'idea è di dotare la nostra città di una nuova scuola all'avanguardia per i nostri ragazzi è stato molto positivo l'incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti dei del consiglio di istituto piuttosto che l'incontro avuto con i quartieri ovviamente abbiamo ben chiare le problematicità ma abbiamo anche delle soluzioni per trovare per dare una risposta a questo a queste problematicità grazie al sindaco per l'illustrazione adesso si può aprire la discussione consigliere all'asia prego non interveniva nessuno ma allora innanzitutto penso che sia 15 minuti presidente innanzitutto penso che sia importante una delibera di questo tipo cioè discutere della realizzazione del nuovo flesso scolastico cioè sia un punto un punto importante di discussione all'interno della di una qualunque amministrazione e questo è sicuramente il fatto positivo di questa discussione che ci sarà stasera e quindi vorrei cercare cioè non vorrei cercare almeno penso sempre di uscire dallo schema di contrapposizione maggioranza minoranza o maggioranza opposizione e cercare di fare dei ragionamenti se effettivamente la localizzazione di questa scuola oggetto della variante si confà alle cose anche che diceva il sindaco in precedenza allora partiamo dagli elementi positivi che ha citato il sindaco cioè l'elemento positivo è quello di avere una localizzazione della scuola all'interno in sostanza del centro urbano del centro urbano questo perché una scuola all'interno del centro urbano dovrebbe stimolare dovrebbe facilitare l'accesso con una mobilità sostenibile verso la scuola stessa ora da questo punto di vista la scuola il plesso che si va a sostituire è ancora più ottimale perché si trova nel centro storico e quindi si trova veramente nel cuore del centro urbano della città e vicino a tutti i punti densamente abitati della città quindi da questo punto di vista non si sposterebbero tanto le cose e visto che sono documenti che sono legati alla proposta di delibera occorre affrontare visto che parliamo di mobilità anche diciamo le soluzioni ai problemi di mobilità a cui accennava il sindaco perché soluzioni innanzitutto soluzioni ci vogliono innanzitutto perché nonostante una previsione piuttosto ottimistica da parte della società che ha fatto la stima dell'aggravio di traffico nella zona via Trento Triestre di fronte all'area della stazione dell'ex scalo della stazione ci sarà un aggravio di traffico nelle ore di punta non c'è stata neanche la valutazione nei giorni mercatali tra l'altro e nonostante le previsioni ottimistiche ci sarà quindi un aggravio riguardo alla viabilità per l'accesso alla scuola e cittadino in generale quali sono sempre nello stesso documento le soluzioni messe in atto la corsia aggiuntiva per un tratto di via Trento Trieste per il servizio bus purtroppo non si vedono qui le immagini della proposta però è una corsia totalmente inutile totalmente inutile per due ragioni uno perché è all'interno di via Trento Trieste e quindi è all'interno della zona ad ampio traffico ad alto traffico e quindi non consente di bypassare il traffico secondo si trova dalla parte sbagliata della strada perché il gran traffico semmai sarà dall'esterno verso l'interno della città quindi dovrebbe essere sull'altra corsia un altro elemento che è stato portato come sollievo diciamo come mitigazione dei problemi alla viabilità è la pista ciclabile che attornierebbe tutta l'area della scuola e in realtà però è un anello chiuso che non ha nelle previsioni fatte per ragionare sulle soluzioni della mobilità per l'accesso alla scuola non ha nessuna legame continuità con neanche delle previsioni di piste ciclabili e quindi è un anello a sé stante autonomo indipendente che non serve all'accesso per la scuola ha detto il sindaco che fin da subito sono stati affrontati i problemi relativi alla viabilità però in realtà i documenti relativi allo studio sulla fattibilità sono arrivati adesso a metà dicembre un primo preliminare è arrivato a novembre però i rilievi sono stati fatti a settembre quindi non è che ci sia stato un grande studio i risultati a mio avviso a mio avviso si vedono e devo dire che anche ragionando sulla dotazione dei parcheggi che sono stati previsti i parcheggi sono tanti però sono messi dal lato opposto rispetto all'area di parcheggio del movicentro che è di servizio alla stazione ora se quei parcheggi come dovrebbe essere penso debbano essere d'ausilio anche al parcheggio per chi accede alle linee ferroviarie ebbene si trovano in una posizione che li costringe a passare per la deviazione per l'accesso della scuola per poter andare poi a prendere i treni alla stazione e in realtà quindi potremmo trovarci un aggravio di traffico ancora proprio sulla via di accesso alla scuola che tra l'altro è dotata di una sola via di accesso perché è dotata nei documenti che sono allegati alla delibera è dotata di una via di accesso e di tre vie di uscita quindi per accedere alla scuola si dovrà passare sempre da un solo punto e un'altra cosa che spicca riguardo alla scelta invece della localizzazione è che siamo in una zona che è anche molto vicina all'industria chimica che si trova vicino attaccato al centro urbano e questa sicuramente non è una scelta non è una scelta ottimale per un nuovo plesso scolastico un altro punto critico di questa scelta è l'ambiente acustico in cui si inserirebbe ora quella zona attualmente classificata in classe tre e la scuola una nuova scuola dovrebbe essere insediata in una zona classe uno due classi meno tenete presente all'incirca che ogni salto di classe corrisponde quasi non è totalmente vero a un raddoppio dell'intensità di rumore nell'ambiente quindi noi siamo dai rilievi che ha fatto l'ARPA nel 2016 siamo al limite tra il livello tre e il livello quattro quindi siamo tra la classe tre e la classe quattro quindi siamo tre classi superiori a quelle che sarebbero richieste per l'insediamento di una nuova scuola soprattutto visto che si tratti di una nuova scuola sarebbe anche utile ricercare non semplicemente i livelli minimi di legge ma i livelli di qualità che la legge indica per l'insediamento di una scuola che sono ancora tre decibel in meno adesso so che i numeri sembrano un attimino magari non significano molto per tutti però un passaggio di cinque decibel scusate una variazione di cinque di sei decibel come livello di rumore significa un raddoppio dell'intensità quindi del contenuto energetico e quindi del rumore creato nell'area e noi siamo quasi a 12 decibel di differenza tra quello che richiederebbe il minimo di legge e la situazione attuale misurata è stato detto durante la commissione che un intervento di mitigazione utile potrebbe essere le barriere a verde diciamo cespugli alti e cose di questo tipo ecco purtroppo le barriere a verdi hanno un'efficacia quasi irrilevante a meno che non abbiano profondità dell'ordine delle decine di metri partiamo da 10-20 metri in su e quindi ci vorrebbero delle barriere decorate a verde magari pareti verdi verticali ma su strutture edilizie per rendere efficace l'abbattimento acustico in quest'area specifica in cui vogliamo insediare la scuola secondo me anche un po' superficialmente si dice siccome l'ambiente acustico non è adatto si tratterà di costruire una scuola con delle strutture edilizie che siano in grado di abbattere in modo conseguente il rumore proveniente dall'esterno attenzione però che quando si parla di clima acustico non si parla semplicemente del rumore che viene trasmesso all'interno della struttura ma si parla del rumore che è ambientale cioè che si trova nell'ambiente che circonda la scuola perché perché auspichevolmente la scuola dovrà avere degli spazi aperti per lo sport per la socializzazione e questi ambienti sarebbero comunque altamente contaminati dal punto di vista acustico nel merito della variante invece qua stiamo intervenendo su la variante interviene su un nodo importante della città che sarebbe oggetto poi del futuro interramento dei binari abbiamo visto nelle commissioni in cui abbiamo discusso di una variante semplificata che attualmente le previsioni del piano regolatore come disegno non sono corrette per quanto riguarda ad esempio l'interramento dei binari nel senso che fanno riferimento a un vecchio preliminare di progetto io penso che l'occasione della variante debba essere l'occasione per proprio perché interviene su questo nodo mettere a posto dal punto di vista cartografico le previsioni dell'attuale progetto dell'interramento ma non solo sempre perché si stava affrontando una variante semplificata che tra l'altro ha delle previsioni in quel nodo relativa a quel nodo cioè un attraversamento da via Piumati a via Gorizia quindi un passaggio tra la zona oltre ferrovia e la zona del centro urbano abbiamo visto che le problematiche erano se sapere o meno della proprietà di una strada che fosse privata o pubblica e se fosse interessante che quel passaggio continuasse a esistere io penso che se facciamo una variante discutiamo del nodo della soluzione del nodo della viabilità tra l'oltre ferrovia e il centro urbano allora facciamo una variante in cui prendiamo di petto queste situazioni e le sciogliamo cioè decidiamo se quella strada effettivamente che propongono nella variante semplificata si può prendere in considerazione o meno oppure se non ci interessa più l'attraversamento in quel tratto della città perché così in un unico intervento ragioniamo effettivamente sul superamento di quel nodo cosa che non è stata fatta con questa variante e ci sarebbe anche visto che ormai sono passati tantissimi anni l'occasione per ragionare effettivamente sulla realtà dell'interramento dei binari non ce ne traccia nel bilancio previsionale anche questa volta e questo significa che nei tempi medi ancora non è non è non è prevedibile una soluzione di questo tipo a questo punto occorre dotare la città di una soluzione alternativa una soluzione alternativa che è stata anche presentata da associazioni da da cittadini non ha importanza però questa variante visto che riguarda questo nodo avrebbe senso che affrontasse questi problemi e mettesse un punto ben chiaro di fronte alla soluzione di questi di questi problemi si vuole intervenire tra l'altro sulla viabilità di questa zona un altro nodo che non si è sciolto ad esempio è intervenire effettivamente sulla bassa capacità di via Trento Trieste in quella zona di smaltire il traffico uno dei problemi che ha questa questa zona è il fatto che c'è una corsia sola per senso di marcia e soprattutto nei pressi della rotonda avrebbe senso adesso visto che parliamo di questa variante affrontare questo problema decidere che visto che c'è una struttura che è il movicentro che è ancora inutilizzato decidere se spostare l'attività attuale del chiosco della ex edicola dentro il movicentro e lasciarci lo spazio per due corsie o meno cioè fare considerazioni urbanistiche strategiche relativa a questo nodo e che siano ad esse ad esse collegate in sostanza per quanto riguarda questa scuola a mio avviso ritroviamo una localizzazione che prevede una zona ad alto inquinamento acustico che non è adatta all'insediamento di una nuova scuola una zona ad alto traffico urbano e quindi alto inquinamento da traffico urbano e una totale assenza da piste ciclabili o percorsi pedonali interessanti il risultato quale sarà che si scoraggerà l'accesso alla scuola con una mobilità sostenibile perché i presupposti climatici e ambientali non ci sono da questo punto di vista quindi ritengo la soluzione proposta estremamente carente l'unica ragione per cui potrei considerare questa proposta in un certo senso da approfondire se ci fossero insieme alla variante delle effettive previsioni di intervento sulla soluzione del nodo viabilità nell'area sia nel senso della dorsale via Trento Trieste sia per quanto riguarda gli attraversamenti tra l'oltreferrovia e il centro urbano ma non ipotesi possibili in un futuro distante ma ipotesi che sono più vicine e notizia mi pare di oggi leggevo sul giornale che Raconigi se ricordo bene sta progettando per il 2019 e il 2020 due sottopassi per ovviare al problema dell'attraversamento dei binari nelle aree urbane o limite fra l'area urbana andiamo a vedere i costi e andiamo a capire se soluzioni di questo tipo sono attuabili perché se sono attuabili nel breve tempo merita la pena approfondirle e approfittare prima di emettere di deliberare questa variante di studiare il caso e quindi di cambiare rotta grazie grazie ricordo il limite dei 15 minuti per il primo intervento consigliere Tripodi prego grazie presidente una delibera importante importante sia per il tema appunto questa variazione dove si parla di scuola e un annoso un annoso argomento quello di dislocare i plessi scolastici dal centro cittadino noi personalmente in maniera molto molto sintetica poi si andrà a soffermarsi particolarmente il consigliere Panero sulle questioni più tecniche pensiamo che sia una zona per insediare una scuola non adeguata le motivazioni sono date da una zona da un comparto ad alto livello di traffico da una scarsa programmazione per quanto riguarda gli interventi che questa amministrazione ha continuato a promettere in tutte le salse e in tutte le occasioni anche per quanto riguarda l'opera dell'interramento dei binari quindi un discorso che nel momento in cui andiamo a votare una variante di questo genere concordo con il consigliere all'Asia sarebbe stato opportuno analizzare in maniera molto ben definita ogni nodo che preoccupa quella zona di città non vogliamo minimamente minimamente che questa scuola diventi come altre opere esistenti nella nostra nel nostro territorio e magari puoi dirci un giorno perché l'abbiamo fatta lì sappiamo che questa amministrazione è comunque per una continuità amministrativa anche nel piano regolatore e diceva bene anche il consigliere all'Asia all'interno del piano regolatore non è previsto il nuovo progetto diciamo di interramento e quindi sarebbe stato opportuno riaggiornare ed è veramente un qualcosa di chiedo scusa ed è un qualcosa di da tenere veramente prendere seriamente in considerazione quello che è i numeri un elevato numero di studenti con i propri familiari lo spostamento macchine biciclette veicoli di tutti i generi mezzi pubblici e quant'altro pensiamo nell'ora di punta pensiamo nel momento del venerdì del mercato mi fa pensare che anche tutti gli studi sulla mobilità sostenibile che la quale l'amministrazione ha speso anche qualche quattrino non sono serviti a nulla per far pensare all'amministrazione che quello non è un posizionamento adeguato per sistemare una scuola pensate ad oggi spostiamo una scuola degli studenti dal centro città per farli spostare da un'altra parte nel centro città dove se dovessero mai nell'ora dell'intervallo nel momento ricreativo e quant'altro ritrovarsi di nuovo in mezzo a quello che può essere il traffico in mezzo a quello che può essere tutte le questioni acustiche ambientali e quant'altro risbagliamo nuovamente ma non è soltanto questa la questione che ci ci fa criticare questa scelta avevamo ben chiaro noi come gruppo di centrodestra ma anche nel vecchio piano regolatore anche nel piano regolatore era così avevamo previsto un qualcosa che potesse dare una risposta secondo noi maggiormente adeguata funzionale sostenibile che era quella di allocare quelle determinata alcuni plessi scolastici in quella che era piazza arpino una zona anch'essa una zona da riqualificare anch'essa una zona da rigenerare nella quale sarebbe stato molto più semplice sarebbe molto più semplice prevedere tutto quello che è il comparto della mobilità pensiamo a quello che cosa c'è attorno a piazza arpino i plessi sportivi una pista ciclabile ampi spazi per prevedere seriamente in maniera innovativa una scuola all'avanguardia ed era una scelta che se vado a memoria era condivisa dall'attuale maggioranza ricordo che all'epoca c'era consigliere provinciale Roberto Russo e se non sbaglio anche più diverso e si trattava e si parlava di e forse anche il consigliere Somaglia se non mi sbaglio no 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 russo e più diverso e in quell'epoca si parlava appunto di in una maniera condivisa di dislocare spostare quello che era vado veramente a memoria non ho preparato un intervento perché mi volevo fidare della mia memoria della valorizzazione della scuola di delle scuole di via Piumatti dell'ex sede dell'istituto dell'ITIS quello in via Mendicità trasferire quelle che erano le Piumatti al Guala e spostare in quella che era Piazza Arpino e formare quel plesso degli istituti tecnici una cittadella della scuola era un qualcosa che questa amministrazione aveva condiviso sto facendo fatica in alcuni momenti faccio seriamente fatica a comprendere con quale programmazione certe volte questa amministrazione prende le proprie scelte e assume le proprie scelte non per tutto non come spesso e volentieri abbiamo già detto vero che vi è un bando ma dobbiamo avere forse sì un po' di visione di quello che è la necessità della nostra città per dare una un plesso scolastico all'avanguardia in una zona anch'essa da riqualificare e ragionamenti possono essere tanti potremmo stare qua oltre che quindici minuti a parlare di un qualcosa che secondo noi non può venire a meno un'analisi dettagliata di tutto il comparto dell'attraversamento pedonale zone limitrofe quindi attraversamento via Piumatti centro cittadino perché lì è un nodo importante e anche in questa occasione mi viene da dire che se vi sono le possibilità anche di ragionare in operere e interventi alternativi di quello che potrebbe essere un attraversamento diverso per collegare congiungere unire due parti della città non dovremmo perdere l'occasione di farlo ma come ben vedete parlare di quel comparto di città di quel pezzo di città quella porzione di territorio crea un diciamo lega tanti e troppi temi che questa amministrazione vuole portare avanti ma per far sì che questo puzzle vada vada a buon fine ho paura che diventi un puzzle incompleto grazie grazie consigliere tripodi allora nell'ordine consigliere Elena e poi consigliere Gaia grazie presidente ma merito a questa variante parziale per quale appunto si propone come ha spiegato bene il sindaco il cambio di destinazione d'uso di un'area di proprietà delle ferrovie dello Stato precisamente di RFI SPA mi sembra che sia intestato l'immobile noi non possiamo che ribadire quanto abbiamo già espresso nelle commissioni congiunte urbanistica e lavori pubblici ribadiamo le nostre perplessità sulla scelta di questo sito per spostare il plesso scolastico attualmente presente qui in via Barbacana certamente siamo favorevoli a spostare lo stesso dall'attuale posizione sia per le motivazioni legate appunto allo stato di manutenzione dell'edificio che alla sua localizzazione nel centro storico di Bra che secondo il nostro parere in genera chiaramente delle problematiche dal punto di vista della viabilità di commistione veicoli pedoni e altre problematiche però dicevo come abbiamo già espresso in sede di commissione la scelta di questo sito ci vede contrari e nutriamo diverse perplessità chiaramente quella prevalente quella che abbiamo già anche espresso è essenziale sta proprio nel sito individuato cioè posto nel punto più critico di Bra infatti la via Trento Trieste è quella forse insieme a via Cuneo la più trappicata di Bra il sindaco ha citato ha detto due volte ha detto giustamente ha detto un posto molto vicino sufficientemente vicino al centro cioè non è sufficientemente è nel centro e questo dal nostro punto di vista è una criticità perché è sotto gli occhi di tutti che quel punto legato insieme al nodo posto davanti la stazione e quindi collegato al passaggio livello con l'inserimento di una scuola di un plesso scolastico sarà ancora più trafficato con chiaramente maggior affluenza di veicoli questo è stato anche riportato dalla società Mobiliter che nelle premesse della relazione che ha fatto l'ha messo appunto proprio come un punto di criticità pertanto nonostante i tecnici che ringrazio già da fin d'ora sia studio Mellano i nostri tecnici comunali e anche Mobiliter abbiano cercato di progettare una soluzione dal punto di vista viabilistico ma anche urbanistico che prevede appunto come è già stato detto prima da colleghi che mi hanno preceduto prevede appunto in sintesi la realizzazione di una rotonda all'innesto di Piazza Giolitti una doppia corsia su via Trento Trieste con una corsia riservata per gli autobus con il divieto di svolta a sinistra per i veicoli che provengono dalla direzione della stazione una pista ciclabile e poi una sorta di piccola bretellina che collegherà la rotonda di Piazza Giolitti con passando per il parcheggio dietro la croce rossa per intendersi attraverso via Gorizia per poi sfociare appunto i pressi dove dovrebbe venire eseguita la scuola con la formazione di un'altra rotonda che però servirà soltanto a fare inversione per i veicoli per poi ritornare verso la via Trento Trieste tutto questo secondo il nostro punto di vista non servirà a mitigare la viabilità in quel punto anzi i carichi di traffico aumenteranno anche la stima di Mobiliter che stima un 10% di aumento per noi è una stima sottostimata scusate il gioco di parole pertanto quindi aumento di carichi di traffico equivale a dire aumento della sicurezza e aumento anche dell'inquinamento atmosferico e legato a questo altra motivazione del sito è già stato citato prima ci sono anche altri aspetti che non sono secondari che sono stati citati prima mi riferisco alle problematiche di carattere acustico e ambientale che però probabilmente quelle potranno magari in una sede poi successiva di progettazione magari essere eventualmente presi in considerazione e anche mitigate per noi il nodo principale è proprio il discorso della zona noi avevamo cioè rimaniamo dell'avviso che la scelta di questo sito avrebbe potuto avere un'altra allocazione noi alcuni esempi li avevamo fatti abbiamo fatto l'esempio della zona dell'ex fornace vicino alla coppa oppure di via gabotto che tra l'altro è terreno e anche già di proprietà del comune chiaramente anche lì quello di via gabotto bisognava capire un po' il discorso della viabilità però anche sul piano regolatore è previsto un collegamento con Corso Monviso quindi in ottica si poteva anche eventualmente parlarne è chiaro che non abbiamo portato dei progetti o studi di fattibilità l'altra volta in commissione urbanistica il vice sindaco ha detto eh sì ma voi avete detto così più o meno là più o meno qua chiaramente noi non è che abbiamo i mezzi per poter cioè i dati alla mano per poter fare noi degli studi di fattibilità noi abbiamo detto queste cose secondo diciamo un buon senso e conoscendo un po' le problematiche di quel sito dove invece si vuole andare a realizzare la scuola magari penso ci fosse stato un confronto magari prima della scelta magari avremmo in quella seta potuto approfondire magari altre opportunità insieme magari appunto con i dati della viabilità anche su altri punti e anche sui flussi di traffico e su tutti gli altri svolti che andranno ad influire sull'inserimento di un nuovo plesso scolastico appunto questa scelta mi sembra che vada cioè andiamo a risolvere un problema di traffico togliendo una scuola qui dal centro storico e proprio per poi spostarlo ad aggravare una zona della città molto penalizzata sotto questi aspetti però per essere propositivi io mi prendo io ne ho parlato con il mio capogruppo solo adesso faccio una proposta cioè visto che ora andiamo giustamente a modificare soltanto la destinazione d'uso con la variante al piano regolatore del sito e come c'è stato detto l'altra volta in commissione ma come ci saranno sicuramente tutti i passaggi successivi per poi eseguire poi l'opera quindi la progettazione i bandi e tutte le cose che dovranno essere fatte quindi con la progettazione di tutte le opere di urbanizzazione a corredo quindi la rotonda l'allargamento di via Trieste la nuova strada di la bretellina io la chiamo piccolina che va da piazza Giolitti fino alla scuola quindi dovranno e saranno valutate a posteriori la nostra proposta è quella però di affrontare in contemporanea il nodo davanti alla stazione relativo al passaggio pedonale che è anche legato al passaggio livello che provoca come tutti sappiamo molti disagi alla viabilità e alla sicurezza dei pedoni pertanto la nostra proposta è quella di slegare la formazione del sottopasso o sovrapasso pedonale che attualmente se ho capito bene è legato all'interramento dei binari e legarlo magari al progetto della nuova scuola o meglio plesso scolastico come un'opera accessoria che andrà magari questo sì a mitigare una problematica certa che c'è e con l'inserimento della scuola sicuramente avrà degli ulteriori aggravi quindi noi proponiamo che magari venga preso in considerazione quando si vada a progettare tutto il discorso dell'urbanizzazione o anche con quello che ha detto anche il consigliere all'Age eventualmente il discorso dello spostamento del chiosco questo non avevo preso in considerazione potrebbe essere un discorso più ampio e completo dal punto di vista urbanistico io capisco che sarà chiaramente anche un discorso di costi però probabilmente magari con un investimento un pochettino più importante si può magari arrivare a risolvere magari anche un problema che sappiamo tutti che è il problema dei problemi dal punto di vista della viabilità concludo ringraziando ancora come ho già detto prima i tecnici che comunque hanno tentato di dare un assetto urbanistico nuovo e condivido quello che ha detto il sindaco dal punto di vista non so se l'ha detto il sindaco anche io ogni tanto c'ho della riqualificazione di quell'area però la riqualificazione di quell'area perché no si l'ha detto il sindaco riferendosi alla rigenerazione urbana però io condivido l'aspetto progettuale però non con l'inserimento di una scuola in quel punto lì niente però adesso concludo qui l'intervento poi mi riservo eventualmente di rientravenire grazie grazie a lei consigliere ha chiesto la parola il consigliere Gaia prego acco lungo eh abbiamo bisogno di un po' di tempo per imparare ancora ritornare a imparare grazie presidente l'argomento che trattiamo questa sera l'abbiamo esaminato approfonditamente nelle commissioni congiunte in queste due commissioni congiunte a lavori pubblici urbanistica ognuno di noi ha espresso le proprie convinzioni a favore o contro io vorrei mi sono segnato qualche punto per non dimenticarmi nulla come già strato lo stato prima lo scopo di questa variantina parziale può essere sintetizzato in quattro punti un adeguamento dello strumento urbanistico per modificare una parte dell'area che era già stato oggetto di modifica nell'ultimo piano regolatore da RIU area di ricomposizione urbanistica e TR area residenziale terziaria e commerciale in area per servizi quindi questo è lo scopo della variantina che andiamo a studiare riqualificare un'area che un tempo era dedicata destinata a scalomerci ferroviaria e che non è più adatta anche secondo il parere dell'RFI a quello che era stato allo scopo per cui era stata ideata ed era stata concepita tutto questo a riqualificare l'area nell'ottica di una ricucitura urbana delle due parti della città questa ricucitura urbana è una cosa importante ecco è un fatto che fa parte della programmazione urbanistica è un qualcosa che l'amministrazione e le future dovranno 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 comunque non perdere mai di vista il passante ferroviario e la ricucitura della città divisa dalla ferrovia è una cosa essenziale poi terzo punto predisporre le condizioni per la nascita di questa scuola prevista per 450 alunni in sostituzione della media più umati e ultimo ma non ultimo progettare una viabilità di servizio al polo scolastico e di alleggerimento sulla via Trento Trieste tutto questo senza perdere comunque di vista il discorso dell'interramento della ferrovia quindi di una futura penso e spero nemmeno immaginaria collegamento tra la via Trento Trieste e la via più umati fare qualche considerazione ho sentito considerazioni sulla localizzazione della scuola favorevole contrarie eccetera io direi presa partiamo dalla presa d'atto che la scuola media più umati in via Barbacani nel cuore del centro storico della città non è più adatta all'uso anzi diciamo che era nata come mi sembra di ricordare è un edificio pluripiano ma nato come seminario che ha più di 50 anni diciamo che riqualificare quell'edificio vuol dire fare fare una no no parlo della scuola più umati è tutta no 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 è degli anni 70 60 immagino è 60 ecco quindi dovrebbe essere oggetto di una ristrutturazione molto pesante per adeguarla alla recente normativa all'ultima normativa antisismica teniamo presente che le scuole come gli edifici pubblici sono edifici di importanza rilevante e quindi vanno trattati sono edifici anzi considerati dall'ultima normativa edifici strategici quindi vanno trattati in una maniera molto molto diversa da quello di un normale edificio produttivo o residenziale perché in caso di un terremoto in caso di una calamità questi devono rimanere comunque in piedi gli altri edifici potrebbero essere lesionati parzialmente inagibili gli edifici pubblici devono rimanere devono poter rimanere senza nessun danno poi abbiamo il problema delle barriere tettoniche dell'impiantistica della distribuzione degli spazi e comunque è un edificio pluripiano secondo me non più adatto a a essere usato per una scuola ecco quindi questo immagino l'amministrazione e per questo l'amministrazione ne aveva già previsto in altri tempi la dismissione si è parlato prima del ecco il consigliere di quel progetto abbandonato ma quel progetto prevedeva la creazione di un polo per l'istruzione superiore nella nella ex fornace dietro la piazza arpino liberando il guala no per farlo ritornare come si vede la scuola media io ho frequentato la scuola media guala in altri in mezzo secolo fa ecco quindi quindi era una cosa era un'idea condivisa era un'idea che trovava trovava tutti d'accordo tutti tutti i consiglieri tutt'è però era la provincia era la provincia che avrebbe dovuto costruire il polo scolastico dell'istruzione superiore quindi non era il comune quindi diciamo che ha fatto bene l'amministrazione a non trascurare l'ipotesi di questa attrattiva con l'RFI per la cessione di questo terreno noi siamo profondamente convinti dell'importanza della centralità di questo di questo sito non posso immaginare una scuola media chiedo scusa al consigliere non posso immaginare una scuola media al fondo di via Gavoto siamo ai confini con del territorio del comune di Bracco il comune di Berasco o in altri posti quindi la centralità per noi è una cosa essenziale e importante ed è posizione strategica in una posizione di grande interesse e probabilmente l'ultima possibilità di poter acquistare poter avere un terreno di una certa dimensione facilmente accessibile e adatto come superficie alla sistemazione alla ricollocazione dell'edificio della scuola media abbiamo poi un altro un altro elemento favorevole abbiamo la vicinanza del sistema trasporto pubblico su rotaia su gomma la prossimità di edifici scolastici o comunque legati all'attività scolastica nell'intorno dell'asilo nido di via caduti del lavoro abbiamo la scuola a tempo pieno Edoardo Mosca ricordava il sindaco e mi era sfuggito la mensa scolastica la palestra Pellizzari abbiamo la biblioteca civica il polifunzionale che è sede anche non so se sia già sede o diventerà sede dell'archivio storico comunale il centro arpino ecco e poi abbiamo il complesso sportivo disporgente comunque a disposizione quindi tutto un polo quindi ne fanno un polo a servizio dei giovani questo ultimo elemento che è stato ben ripreso nella proposta di delibera fatta dall'ufficio urbanistica è in linea con il DM del 75 che parla concernente le norme tecniche dell'indirizzo scolastica ecco specialmente nel punto in cui dice non ve lo leggo tutto ecco gli edifici scolastici devono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio con essi integrabili sia spazialmente che nell'uso quali servizi sportivi recreativi culturali amministrativi quindi questo è un elemento fondamentale secondo noi fondamentale esiste poi un altro elemento sempre in questo decreto quello che ho detto prima era nella introduzione nel capitolo localizzazione della scuola si sostiene ve lo leggo la scuola secondaria di primo grado scuola media sia che si riferisca allo stesso ambito residenziale della scuola elementare o come talora avviene a zona più vasta è frequentata da alunni più autonomi nel percorrere la distanza residenza scuola e maggiormente adatta ad esufferire di mezzi di trasporto sempre in questo capitolo mi dice mi viene detto le distanze i tempi di percorrenza massimi in relazione ai modi di percorrenza e ai tipi di scuola sono prescritte per le scuole medie in mille metri a piedi e ho 15-30 minuti con tempi di percorrenza massimo con mezzi di trasporto quindi io mi sono immaginato ho preso una cartina di bra il nostro piano regolatore ho fatto un cerchio con centro l'escalo ferroviario raggio mille metri e ho visto che si copre una superficie una superficie che va da via ospedale quindi dall'ospedale arriva al centro storico piazza Spreitenbach arriva in via Cuneo e comprende l'ultreferrovia cioè veramente tutto il nucleo di bra ecco perché parlavamo prima dell'importanza della centralità se poi devo fare ancora una posso dire che l'intervento proposto può essere anche in linea con la recente legge regionale del ottobre 2018 misure per il riuso di qualificazione edificato e rigenerazione urbana ho sentito prima che tutti hanno detto rigenerazione urbana effettivamente siamo in linea anche con questo decreto che tende a salvaguardare il consumo del suolo dicendo non andiamo a costruire in posti ma andiamo laddove è già stato il terreno è già stato in qualche modo utilizzato come era lo scalo ferroviare quindi andiamo in un posto già compromesso dal punto della vista della viabilità diciamo che la via Trento Trieste che è il tratto terminale dell'ex circonvalazione di Bra è il tratto terminale in cui confluisce la via Dordobrizio la via Viale Risorgimento via Gipigandino effettivamente può avere qualche criticità è un punto nervalgico e sicuramente dopo l'intervento che viene proposto immaginiamo che qualche cosetta dovrà essere fatta lo studio che ha proposto Mobiliter ha proposto uno studio che comunque è interessante bypassare la via Trento Trieste servendo la scuola dal lato diciamo sud questo ci consente di avere delle alternative quindi io mi metto tramite la rotonda che è situata lì all'angolo di Piazza Giolitti mi metto vado arrivo fino al parcheggio al parcheggio dove si può scaricare i ragazzi poi ho due alternative o continuo e mi rimetto in via Trento Trieste e posso tranquillamente ritornare indietro e riandare dalla parte opposta in Bra quindi possiamo immaginare che non tutto il traffico si rimetterà in via Trento Trieste ma sicuramente una parte oppure tramite la via Gorizia si potrà accedere all'oltreferrovia diciamo che altri correttivi possono essere poi studiati nel momento in cui si progetterà anche la scuola diciamo le linee generali sono delineate poi il discorso del ho sentito parlare spostare il chiosco l'edicola beh io avevo già fatto presente all'assessore Messa che probabilmente senza spostare il chiosco ma spostando forse solo l'edicola che vedo attualmente in vendita è chiusa da almeno cinque sei mesi probabilmente si riesce a ottenere e mi sembra che sia stato fatto questa verifica ad avere due corsie di modo che nel momento in cui come dicevo già in commissione paradossalmente il passaggio di livello è chiuso e quindi lo scorrimento in direzione del ponte di Viacunio è diciamo maggiormente fluido a volte gli si trova un intoppo perché si ferma la coda avere a disposizione due corsie consentirebbe chi vuole rimanere aspettare l'apertura di sostare e gli altri di transitare veloce quindi poi altri correttivi si possono fare sempre nello studio della mobiliter i correttivi proposti che sono il divieto assoluto di sosta indietro in tutta Trieste in modo che a nessuno venga l'idea di fermarsi e scaricare i ragazzi salutare e andare via il divieto di svolta a sinistra direzione Torino per rimettersi in via Gorizia nello stesso tempo l'obbligo di svolta a destra verso la stazione per chi usufruirà di quella bretellina di collegamento che diceva prima altri correttivi io immagino che si possano trovare in corso d'opera poi l'ipotesi che ha formulato la mobilit o chiedo scusa diciamo la mobilit ha ipotizzato il 60% di ragazzi che possono andare a piedi o in bicicletta il 40% io penso sia un dato attendibile auspicabile abbiamo parlato della mobilità sostenibile è bello sapere la mobilità sostenibile diciamo noi pensiamo e vogliamo credere che se vogliamo contribuire a combattere l'inquinamento e le sue ricadute sull'ambiente in cui viviamo sia necessario uno sforzo comune di tutti soprattutto di un segnale che parte dalle istituzioni dagli educatori attraverso gli educatori ai ragazzi attraverso i ragazzi ai genitori a trasmettere questo messaggio importante secondo me questo è un punto assolutamente su cui bisogna assolutamente insistere per questo motivo noi siamo favorevoli alla localizzazione della nuova scuola più matti nel sito proposto grazie grazie a lei aveva chiesto la parola hanno chiesto la parola nell'ordine il consigliere Maju e poi il consigliere Marengo consigliere Marengo prego poi il consigliere Maju grazie presidente buonasera a tutti ha detto bene prima di me il consigliere Elena noi come minoranza di centrodestra abbiamo già manifestato nei luoghi opportuni cioè nelle commissioni congiunte urbanistica e viabilità la nostra perplessità sulla localizzazione della scuola nel luogo che viene proposto da questa amministrazione e vedete la nostra perplessità che diventa poi un parere negativo si articola su tre ordini di motivi sostanzialmente il primo è di ordine legato alla viabilità ampiamente i consiglieri che mi hanno preceduto soprattutto i consiglieri i colleghi dell'opposizione hanno già ben argomentato ma poi entreremo ancora un attimo in questo in questo ambito ma soprattutto c'è un ordine legato all'economia del progetto e terzo e non ultimo una negatività da parte nostra su un progetto di ordine legato all'ambiente apprendo questa sera che il sindaco prima nel suo intervento dice abbiamo preso in considerazione altre possibilità altre soluzioni non abbiamo mai sentito parlare però nelle varie commissioni congiunte tant'è vero che sia io sia i colleghi di minoranza del centro-destra abbiamo fatto due proposte sostanziali il collega Elena prima le ha ricordate abbiamo cercato di essere propositivi il nostro non è stato un no ideologico noi siamo fermamente convinti che questa scuola debba essere costruita semplicemente non in quel luogo il discorso è che se si vuole essere propositivi si devono dare suggerimenti io credo che noi lo abbiamo fatto abbiamo proposto due soluzioni alternative due soluzioni che che possono essere prese in considerazione una soprattutto e lo hanno ricordato alcuni consiglieri prima di me proprio perché è sempre esistita nella mentalità e nella diciamo nella forma mentis degli amministratori pubblici breidesi la possibilità di trasferire le scuole dal centro in periferia in maniera tale da decongestionare il traffico urbano il discorso e io ricordo l'intervento non ricordo il nome dell'ingegnere della società mobiliter ma d'Alessandro grazie ricordo ricordo il suo intervento nella prima forse nella prima commissione che abbiamo organizzato e ricordo anche il suo imbarazzo perché stava tentando di difendere l'impossibile cioè stava tentando di dire che quella era la soluzione scelta da questa amministrazione e che doveva essere presa in considerazione e poi negli obiettivi di studio e lo dico sulla base dei documenti che ci sono stati consegnati proprio da mobiliter lo afferma lui stesso quando dice in obiettivi di studio in ragione del contesto lo studio dovrà non solo individuare lo schema di accesso ottimale alla scuola con tutte le modalità di trasporto ma anche considerare valutare le potenziali ricadute sul traffico e sulla circolazione nell'ambito di intervento e qui è particolarmente interessante con particolare riguardo all'asse congestionato di via Trento e Trieste lo dice mobiliter asse congestionato se noi andiamo a vedere utilizziamo wikipedia quando si parla di congestione stradale è una condizione relativa ad una rete il cui utilizzo aumenta fino a pervenire a situazioni di bassa velocità lunghi tempi di viaggio ed incremento delle code esattamente quello che stiamo dicendo noi dell'opposizione da quando abbiamo iniziato a parlare di questo argomento ed è facilmente intuibile che queste sono le conseguenze della viabilità nel momento in cui la scuola sarà costruita una scuola costruita per 320 bambini perché attualmente questa è la popolazione scolastica delle più matti ma che possa prendere in considerazione un incremento lo diceva il sindaco prima fino a 450 bambini bisogna ricordare poi anche tutte diciamo le figure legate alla scuola non soltanto gli insegnati ma il personale di segreteria i bidelli pensate a quanto aumenterebbe il traffico a quanto verrebbe congestionato in quella zona io non credo nonostante le rassicurazioni che il dato empirico che ci sia stato fornito e che cioè rispetto ad oggi mi sembra il 40% forse dei bambini o dei ragazzi sarà accompagnato in macchina mentre il resto andrà a piedi perché vive lì attorno bisogna calarsi nella necessità delle famiglie come dicevo in una scorsa commissione congiunta è pieno ma credo che tutti noi conosciamo decine se non centinaia di casi di persone che al mattino si recano al lavoro e portano i bambini a scuola portano i ragazzi a scuola prima di recarsi e quindi intaseranno questa è la parola giusta quell'asse viario tenendo anche presente che già adesso la situazione è congestionata perché ormai l'asse della viabilità a Brà si poggia solo più su via Trento Trieste e via Principi di Piemonte essendo stata poi via Vittorio Emanuele pedonalizzata quindi la situazione è veramente incancrenita e lì vicino in piazza Giolitti c'è un'altra scuola c'è la scuola Mosca una scuola elementare quindi il traffico delle persone che accompagneranno a scuola i figli degli insegnanti che si recheranno al lavoro si unirà a quello che è già al traffico attuale di genitori che portano i figli a scuola alla scuola elementare è stato detto possiamo pensare a soluzioni alternative migliorare pedibus per carità tutto giusto però effettivamente la questione è che sulla carta oggi non ci sono le rassicurazioni per cui quella locazione sia il posto ideale per poter andare ad insediare un plesso scolastico come questo in secondo luogo c'è un ordine legato all'economia parliamo sempre del vil denaro fino adesso non se ne è parlato questa è un'opera finanziata da un bando INAIL si parla di 7 milioni di euro complessivamente di cui però per la realizzazione della scuola si parla di 5 milioni 5 milioni e mezzo il restante milione e mezzo 2 milioni sarà destinato all'acquisto del terreno e a tutte quelle opere di viabilità come dicevamo prima che serviranno poi al diciamo al permettere un migliore dal punto di vista di mobiliter accesso alla scuola ma sono cifre importanti il comune possiede un terreno in via gabotto se si decidesse di puntare su quel terreno già i 700 mila euro che da bando dovremmo chiedere all'INAIL beh in realtà non dovremmo più farlo sarebbero soldi risparmiati stiamo parlando di denaro pubblico se decidessimo di andare ad acquistare magari la fornace la ex fornace beh io non sono un tecnico ma i tecnici con cui ho parlato in questi giorni mi hanno assicurato che la cifra di 700 mila euro impegnata per l'acquisto del terreno è lontanissima da quella che è l'effettiva diciamo l'effettivo valore di quel terreno oggi quindi ci sarebbe un risparmio enorme e questo risparmio poi si concreterebbe anche in quello che sarà poi il canone d'affitto che il comune dovrà pagare a INAI 30 anni sono tanti questa amministrazione a 5 mesi dalla scadenza del mandato e alle prossime elezioni impegnerà con questo progetto le prossime 6 amministrazioni indipendentemente dal colore politico 300 mila euro a oggi è stimato il canone d'affitto poi sarà più basso perché ci saranno i ribassi d'assa tutto quello che volete però si tratta sempre di cifre importanti e cifre ingenti tutti i soldi che oggi noi potremmo risparmiare andando a delocalizzare la scuola in uno di questi altri due punti da noi proposto sicuramente comporterebbe un risparmio economico importante quel risparmio economico che poi si tradurrebbe in un minore esborso per l'allocazione per 30 anni non si tratta di pochi mesi o pochi anni si parla di impegnare il comune per 30 anni e se partiamo dalla cifra che lo stesso sindaco ha detto qui in commissione una mia precisa domanda e cioè che a oggi il canone sui 300 mila euro beh caspita 300 mila euro tutti gli anni dovranno essere messi a bilancio solo per pagare il il canone d'affitto senza contare poi la manutenzione ordinaria che sarà a carico del comune è ovvio che all'inizio non ci sarebbero probabilmente essendo poi l'edificio nuovo grosse difficoltà ma con l'andare del tempo come tutti gli edifici hanno bisogno di migliorie e hanno bisogno di essere manutenuti e questo ricadrebbe anche a carico del comune sul comune è stato detto anche in una delle commissioni che nel gioco nella partita potrebbe rientrare anche il fatto che l'attuale scuola più matti potrebbe poi essere alienata certo sarebbe la soluzione ottimale ricordo a loro signori che il comune ha in questo momento altri edifici che da anni vengono messi sono alienati vengono alienati e sono ancora dei proprietà nostre non siamo riusciti a venderlo in via Mendicità la stessa provincia ha ancora da non so più quanti anni la vecchia scuola Mendicità che poi era diventata Itis ed è lì da vendere come sempre è difficile il momento quindi difficilmente si potrà trovare un compratore in ultima analisi la negatività che noi vediamo sulla scelta di questo luogo deriva anche da motivazioni legate all'inquinamento e quindi all'ambiente si parlava prima di mobilità sostenibile per carità tutto giusto vorremmo tutti vivere in una città a misura d'uomo dove si vada più in bicicletta si vada più a piedi a cavallo insomma dipende un po' come uno come uno vuol fare e mi colpiva molto chi mi ha preceduto e diceva che la normativa richiede che la scuola possa essere raggiunta dai ragazzi percorrendo al massimo mille metri a piedi però poi 15-30 minuti con altri mezzi cioè caspita 15-30 minuti con altri mezzi quindi con l'auto io in 30 minuti non so voi ma arrivo a Moncaglieri quindi vedo un controsenso un non senso in questo non possiamo effettivamente credere che si possa risolvere il problema del traffico pensando che quello che viene stimato oggi e cioè un aumento di 200 auto in ore di punta possa essere sufficiente perché secondo me non lo è assolutamente saranno molte di più le auto che percorreranno il tratto di via Trento Trieste e pensate all'inquinamento abbiamo siamo reduci pochi giorni fa dalla chiusura al centro delle macchine Euro 4 per parecchi giorni abbiamo sforato i limiti di inquinamento noi e Alba pensate quanto pensate quanto potrà essere ancora Euro 3 chiedo scusa Euro 3 sì sì hai ragione chiedo scusa però per parecchi giorni pensate quanto la nuova situazione futura potrà andare a incidere sull'inquinamento in quel in quel tratto di strada quel tratto di strada che ricordiamo nel tratto davanti alla stazione diciamo dal chiosco andando in direzione del passaggio livello è strato ristretto negli anni scorsi da tre corsie a due quindi creeremo con un traffico aumentato in quella direzione un imbuto maggiore le macchine si incolonneranno lì e le colonne secondo me arriveranno in piazza Giuritti già in certi momenti se voi passate in determinati orari c'è la coda e se dai giardini guardate si vede la coda fino a piazza Giuritti tutte queste situazioni per noi sono negative e rappresentano un un no fermo a quello che è il progetto portato avanti da questa amministrazione progetto che è partito abbiamo visto i documenti firmati di richiesta nel 2015 ma il consiglio è stato informato solo nel 2018 io ritengo che e l'ho già espresso nelle commissioni che arrivare adesso a sei mesi dalle elezioni sia un errore proprio perché come dicevo prima portare avanti un progetto di questo tipo a così breve scadenza di questa amministrazione che vedrà ci saranno poi elezioni a maggio sarà impossibile da giustificare in futuro perché ripeto impegneremo per 30 anni le future amministrazioni sei amministrazioni con questo progetto le spese che dovranno affrontare queste amministrazioni indipendentemente dal colore non sto parlando di colore politico sto parlando di amministrazione di questa città saranno importanti saranno considerevoli e dreneranno risorse perché potranno essere non 300.000 forse 250 forse 200 ma saranno legate ai 7 milioni dell'investimento sicuramente importanti scegliere un'altra soluzione una soluzione alternativa a nostro giudizio potrebbe eliminare tutte quelle spese per esempio l'acquisto del terreno in caso si scegliesse via Gabotto e termino presidente o una cifra sicuramente più bassa e che non richiederà opere di viabilità aggiuntiva come invece all'ex fornace e quindi le cifre di cui parliamo oggi per la realizzazione della scuola saranno certamente inferiori saranno certamente inferiori e queste cifre inferiori si ribalteranno inevitabilmente sul canone d'affitto che il comune dovrà versare all'INEL per i prossimi trent'anni proprio per queste ragioni non possiamo che dirci non soddisfatti del progetto che ci è stato presentato e ovviamente quando sarà in fase di votazione trarremo giustamente le nostre conclusioni grazie grazie a lei allora nell'ordine consigliere Mangiù consigliere Ferrero consigliere Panero prego consigliere Mangiù grazie presidente sarò molto breve e non ripeto ciò che disse nell'ultimo consiglio comunale in realtà ammetto che quando vedo i tecnici esterni nelle varie capigruppo negli incontri so già che tutto è fatto e quindi qualunque tipo di proposta qualunque tipo di miglioria che venga le proposte suggerimenti che faccio che facciamo non viene accettato perché la strada ormai è già intrapresa e quindi non vorrei neanche ritoccare i vari punti tecnici che sono stati toccati prima cosa non va cosa non va bene però la metterei molto sulla visione politica qualcuno prima ha detto che è meglio realizzare un'opera dove possiamo sentirci orgogliosi oppure qualcuna per la quale fra alcuni anni diciamo forse ci siamo pentiti averla fatta e strutture così ce ne sono ovunque in Italia basta passare a Genova a vedere un'autostrada che passa sul porto antico piuttosto che palazzi presenti vicino a palazzo antichi o anche vicino al nostro puliteama dove ci sono edifici costruiti in anni in cui si diceva era la modo di allora ma che oggi sarebbe gravissimo rifare un errore simile e quindi penso che qualunque tipo di costruzione che tocca il cuore della città nel centro della città possa cambiare la faccia della città andrebbe preso con molta molta cautela soprattutto quando non c'è un'animità di persone che rappresentano i cittadini io durante la commissione chiese a mobiliter se mi poteva dare dei dati su ciò che è il traffico durante mercoledì e venerdì durante i mercati e da quello che mi sembra di capire non siano stati fatti rilevamenti su quei due giorni ma mi aspettavo che sarebbe poi stato fatto successivamente e magari rendercelo noto ma non so se sia fatto attualmente e sono due giorni importantissimi quelli perché se il traffico già oggi è difficile nelle fasce orarie figuriamoci durante il mercato quando c'è un aumento di cittadini che arrivano anche da fuori ma soprattutto di furgoni e camion delle persone che hanno gli spazi al mercato davvero io ho parlato anche con persone in maniera diretta persone anche amministratori di questa città anche della maggioranza se fossero state prese se si fosse pensato a una struttura diversa da questa di cui stiamo parlando questa sera mi è stato più volte detto si abbiamo tenuto in considerazione alcuni posti però io non ho mai capito ad oggi quali sono le reali motivazioni che hanno abbiano portato piuttosto a non prendere in considerazione l'ex fornace piuttosto che scuole già esistenti piuttosto che riqualificare alcune scuole e quindi mi sembra di capire che la scelta sia già stata presa da parecchio e quindi è indiscutibile e il sindaco ha esordito insomma il suo intervento dicendo sottolineando che avrebbe fatto un discorso politico i tecnici ci spetteranno i tecnici giustamente il discorso è politico e io proprio perché è politico e proprio perché l'impegno politico va sempre preso e sottolineando che è un progetto che era presente nella nella nell'accordo elettorale che ha portato l'elissa al sostegno del sindaco e quindi mi sono sentito quasi preso in causa preso in causa perché quel documento quel documento io l'ho firmato un documento che ne ho condiviso i principi un documento per il quale mi sono autoimposto per serietà per lealtà assolutamente di condividere fino a un fondo pur non essendo più parte della maggioranza e quando lei ha detto che questo è uno dei punti elettorali io da un'oretta che guardo nel programma elettorale del 2014 e questo punto non c'è questo punto non c'è forse c'era voce ma per iscritto non è presente ma anche se fosse stato presente il fatto che questa scuola era da chiudere le soluzioni però sono diverse le soluzioni a volte sono positive altre sono negative alcune possono essere peggiori dall'attuale io ribadisco assolutamente la mia totale contrarietà immaginare una scuola in questo spazio mi sarei aspettato uno studio più generale che guardasse Abrà nei prossimi 30 anni e ragionarci insieme insieme con tutti i rappresentanti dei cittadini neanche perché davvero è un progetto importantissimo che cambierà la città e proprio perché tale andrebbe preso con molta molta più cautela ribadisco nuovamente a mia contrarietà e non so neanche se posso sperare in una in versione a U però è Natale chissà io spero in versione a U in realtà davvero ci spero tanto perché secondo me c'è un potenziale incredibile in un lato della città e non il vincolo di un terreno che ci viene venduto a bassissimo prezzo e non la paura che un privato possa costruire dei grattacieli là secondo me il potenziale è altrove e non è in quello spazio grazie grazie mi sembra che adesso tocchi al consigliere Ferrero grazie Ferrero poi Panero vero? sì allora prego consigliere grazie che sono intervenuti per la pacatezza sia nel merito che dei toni con i quali hanno affrontato l'argomento credo sia questo un segno di oltre al Natale di voler ragionare un po' oltre gli steccati della maggioranza opposizione anch'io mi mi associo a prenderla con calma e quindi a fare dei ragionamenti il più possibile pacati farei un ragionamento di aspetto un po' più generale più politico se si vuole e poi vorrei entrare anche nel merito di alcune cose che non mi sono preparato ma prendendo gli appunti da tutte le sollecitazioni che sono venuti c'erano tre paginette quindi mi auguro di stare nel tempo previsto quindi io sull'aspetto più generale direi che la variante che siamo chiamati stasera a deliberare con status rientra nella logica programmatoria di omogeneizzazione della qualità urbana della città dovendo questa amministrazione procedere alla ricollocazione ecco grazie grazie quindi dovendo l'amministrazione procedere alla ricollocazione del plesso dell'attuale scuola media di via barbacana in quanto non più completamente adeguato all'esigenza e che necessiterebbe di onerosissimi interventi per l'adeguamento alla normativa antisismica barriere architettoniche impianti e quant'altro l'amministrazione ha preso in considerazione la realizzazione di un nuovo edificio in altro luogo prevedendo la dismissione del vecchio e inserendo tale previsione del piano regolatore perché questa previsione c'era già nel 2014 quando è stato approvato il nuovo piano regolatore la ricerca è stata fatta di altri luoghi quindi sono stati presi in considerazione tutti gli spazi disponibili valutandone per ognuno l'adeguatezza i pregi e i difetti rispetto alla localizzazione e alla fine la scelta è ricaduta su un'area ferroviaria in parte dismessa all'ex scalomerci e in parte valorizzata con destinazione residenziale commerciale questa variante ne prevede il cambio di destinazione d'uso in area servizi a destinazione scolastica è una variante che era già nelle corde del piano regolatore era già un po' previsto questo cioè quello di recuperare uno spazio non urbano facendolo diventare tale c'era già una previsione di piano riguardante l'area confinante la Rio 2062 che ora viene in parte inglobata nella variante siamo consapevoli che questa è una scelta che lascerà il segno ma siamo anche consapevoli che lo sarebbe se non la facessimo in quanto ci verrebbe ricordata ai posteri che abbiamo perso che è stata un'occasione persa che queste occasioni di questi spazi in pieno centro e cittadino si presentano una volta o lo si fa questa o non si fa mai più quindi sono convinto che lasciera il segno questa scelta e che quindi bisogna che ci ragioniamo bene fino in fondo ricordo che con queste varianti si preordina soltanto al momento un nuovo disegno urbanistico abbiamo tracciato una cornice e poi dentro questa cornice il dipinto è tutto da realizzare passerei adesso un po' a osservazioni che sono venute tutte puntuali precise e non è che tocca a me dare delle risposte però faccio delle considerazioni di alcune anche di condivisione ma altre di netto né detto di senso parto dall'inizio da quando il consigliere all'Asia nel suo incipit dice che mi sono rimasto quasi male quando l'ho sentito dice il sito è ottimale signore ma dov'è adesso doveva parare dopo e poi però il tutte le questioni che ha posto dopo fanno sì che era questo forse un atto di cortesia quello che è stato che è stato all'inizio e vengo a dire il sindaco subito ha detto che eravamo ben consapevoli che questa scelta presentasse delle qualche problema qualche criticità di viabilità eravamo tanto convinti che si è dato immediatamente mandato a una società specializzata in merito affinché si vedesse cos'è che si poteva fare per attenuarla tant'è che il problema più grosso da subito dall'inizio è stato l'ingresso a questa scuola che se non si fosse trovata la soluzione di aprire questo nuovo ingresso a nord attraverso l'abbattimento di quei due piccoli capannoni delle ferrovie probabilmente ci sarebbe stato veramente un grosso problema di viabilità però se si vuole vedere con pacatezza mi pare che questa proposta di nuova rotonda sull'angolo di piazza giolitti e questa nuova bretella di collegamento per l'edificio scolastico diciamo che abbiamo un ingresso a scuola completamente slegato dal via Trento Trieste per tutta l'utenza che viene da est nord che viene verso la scuola e quindi questo problema è stato affrontato molto seriamente e crediamo che con questo tipo di soluzione di viabilità in gran parte l'ostacolo più grosso sia stato superato poi colpone anche il problema della corsia completamente inutile non capisco da dove venga la inutilità del posizionamento di questa terza corsia perché se l'avesse messa dall'altra parte sarebbe stato molto peggio perché avrebbe sempre traversato avrebbe sempre tagliato le altre due corsie diciamo che l'ottimo di questa terza corsia va ricercato nell'osservazione che ha fatto il consigliere Gaio ultimamente e che è venuta fuori abbastanza di recente in quanto questo tipo di terza corsia al momento nel progetto è limitata al parcheggio del movicentro se questa potesse essere allungata con la questione dell'edicola che oggi non è più in funzione e questa terza corsia continuasse fino al passaggio a livello crediamo che sarebbe un grosso grosso passo avanti in quanto questa terza corsia lì ubicata e non dall'altra parte permetterebbe una fila di macchine che possa andare addirittura dal piazza Gioliti fino al passaggio di livello uno incodato all'altro ma tutti che vanno oltre l'oltre ferrovia e tutti gli altri che vanno verso Albo verso il centro di Bra avrebbero non avrebbero più tutte queste macchine di ostacolo che stanno per andare all'oltre ferrovia quindi non la non la non direi che sia inutile quella corsia ci crediamo veramente e si studierà a fondo quella proposta che faceva il consigliere Gaia poi c'è la questione piste ciclabili sollevata credo che insomma sia un'affermazione buttata un po' lì quella che sia una pista a sé a sé stante attorno alla scuola è proprio volerlo dire questo ma non risponda al vero perché la pista ciclabile praticamente di lì arrivare fino alla stazione di fatto c'è c'è un marciapiede che largo tutti quei metri e quindi di fatto c'è dall'altra parte tutto il viale rimembranza c'è il via Moviso finalmente avete visto che sono stati tirati via i famosi carpini e non sono stati tirati via per un dispetto ma sarà questo oggetto di prolungamento della ciclabile della via Rolfo c'è ed ecco che l'anello pian pianino si sta chiudendo quindi non direi che sia una pista messa lì tanto tanto per metterla poi ecco il fatto della localizzazione troppo vicina all'industria chimica è pieno di scuole lì attorno se poi ci mettiamo anche quella di via Piumati di fronte all'ARPA diciamo che è una situazione che c'è ed è questa poi invece la cosa che mi ha per certi aspetti un po' sorpreso perché è una novità questa quella di legare a questo intervento poi c'è anche un altro legare a questo intervento quella richiesta di variante semplificata presentata da una ditta qui di Bra che prevede l'istruzione di un passaggio livello in via Gorizia e mi par di capire che da questa osservazione fatta da consigliere all'Asia che non disdegnerebbe una anche soluzione di quel tipo se così è perché no ragioniamoci ragioniamoci vedendo tutti i pro e contro vedendo cosa succederebbe in via Fiumatti non non buttiamo a mare però come che sia una risposta che non sia quella dell'istituzione di nuovo passaggio livello perché credo che che non abbia nessuna possibilità di essere portata avanti ancora ancora il fatto che due o tre consiglieri abbiano ribadito la proposta della scuola via Gabotto o o lassù ecco in via Gabotto non dimentichiamo che oggi come oggi si sta togliendo una una fila di parcheggi su un lato della strada perché è impossibile passare quindi si sta riducendo ancora non dimenticando che oggi ci sono almeno dieci tira al giorno che vanno all'ARPA non oso pensare cosa potrebbe succedere di inserire lì una scuola e questo vorrebbe dire che un bambino che va da piedi ancora non ci sarebbe più localizzata in quel punto altra cosa invece da prendere in seria considerazione la la sollecitazione del consigliere Elena e ne abbiamo già anche parlato in commissione e non una volta quella del sempre nel senso di favorire lo snellimento della viabilità automobilistica quella del passaggio pedonale davanti tra la stazione e il il giardino di Piazza Roma anche su questo credo che ci debba essere tutta la disponibilità a farci un ragionamento qualcuno è d'accordo su questa ipotesi altri dicono insomma bisogna passare le macchine sotto ma la gente sopra e non viceversa comunque piena piena disponibilità credo da parte dell'amministrazione di prendere in considerazione un approfondimento di questa sollecitazione per ultima lascio quella del passaggio livello ovviamente che non sarebbe corretto non parlarne nel senso che un po' da tutti è stato ribadito che questa localizzazione della scuola non sarebbe così negativa se si riuscisse a dare una soluzione a questa questione del passaggio livello quindi una soluzione della viabilità concreta e definitiva e sappiamo tutti in che situazione siamo ricordo sempre che questa questione del passaggio livello già sollevata da x amministrazioni passate parlo del 1985 con un concorso di idee che poi si è arenato perché nessuno aveva trovato una soluzione soddisfacente non hanno fatto manco un problema di finanziamenti non c'era una soluzione che piacesse e da cosa è morta lì poi qualche visionario vent'anni dopo ha fatto sta pensata di dire perché no cambiare e far passare i treni sotto le auto sopra e non cavalcavia o sottovia in quel posto praticamente impossibili e quindi è venuta fuori quella proposta che ha fatto tutta la sua strada che è adesso un progetto un progetto praticamente con le caratteristiche del definitivo purtroppo però è la questione economica faccio notare che ai tempi del governo Berlusconi questa proposta è finita sul suo tavolo ci sono le fotografie dell'allora presidente Bressa con il presidente Berlusconi e rappresentata come un intervento di interesse regionale e anche nazionale con a fianco la sua casellina bianca con scritto 62 milioni questa è tutta cosa che è agli atti quindi strada ne abbiamo fatta abbiamo spinto devo purtroppo anche far notare che in sede locale non c'è stata sempre altrettanta spinta in questo senso che si riversava piuttosto sulla critica che non nell'aiutare a cercare questo tipo di finanziamento faccio presente che questa roba è stata approvata ai tempi della giunta Simone con alcuno dei presenti allora in maggioranza quindi io dico che è vero che come diceva qualcuno in commissione chiudo mi dia solo più un secondo diceva diceva che un buon generale non può non avere un piano B non so più chi lo dicesse in una commissione beh noi non diciamo che abbiamo il piano B lì in tasca però la disponibilità a percorrere anche altre strade e valutare altre proposte che non siano un semplice riga tirata su un foglio ma che se ci credono coloro che fanno queste proposte che per favore a fianco per fare dei paragoni omogenei si scrivino anche un minimo di previsione di spesa grazie grazie sforato di due minuti bravo è vero la prima volta veramente consigliere Panero poi consigliere Cornaglia e poi Somaglia prego Panero grazie presidente cercherò di fare un intervento breve appunti perché tante cose sono già state sviluppate e corriamo il rischio di ripeterci allora questa è una variante al piano regolatore per tornare all'argomento in oggi un iter che parte oggi che però come ci è stato spiegato anche da un intervento nel sindaco nella commissione non si tornerà più indietro e oggi lo facciamo secondo noi con molti punti interrogativi iter partito come abbiamo sentito da tanti anni ormai ma noi consiglieri di minoranza siamo stati informati solo da pochi mesi e questa priorità nei documenti di questa amministrazione non l'abbiamo mai trovata come gruppo siamo d'accordo che bisogna risolvere il problema annoso della collocazione delle scuole ebraidesi e che non bisogna più intervenire sulla scuola di via barbacana che deve essere sicuramente ricollocata e non sia necessario investire dei soldi in questo fabbricato anche qui permettetemi una battuta mi dissocio completamente da quello che ha detto l'ingegner Gaia che il fabbricato è vecchio ha bisogno di tanti interventi anche perché lo mettiamo al punto 3 del piano di rilegnazioni in vendita a 4 milioni di euro quindi diciamo pure che il fabbricato è in buone condizioni e speriamo che qualcuno e sarà disponibile tra breve e speriamo che qualcuno lo voglia comprare a parte le battute concordiamo sull'idea che non bisogna più intervenire su quel fabbricato su quella scuola e che sia necessario ricollocarla soltanto non riteniamo che questa zona sia quella giusta condividiamo anche come principi le motivazioni di fondo espresse cercare di incentivare il raggiungimento a scuola con mezzi alternativi autobus a piedi in bici con mezzi pubblici questi sono le devoli principi che vanno perseguiti con iniziative in questa direzione mi viene in mente è già stato citato ampliare migliorare tutto è stato detto è migliorabile pedibus o altri strumenti per incentivare le mobilità sostenibili a piedi ma soprattutto in bicicletta permettetemi si scontrano però con l'attualità e con le esigenze e con gli obblighi delle famiglie io sono convinto che qualsiasi mamma e qualsiasi papà farebbe maggiormente piacere accompagnare i propri figli a scuola o lasciarli a un chilometro dalla scuola e avere però la tranquillità la serenità che questi loro figli possano raggiungere la scuola in sicurezza perché assolutamente non potrebbe essere diverso e raggiungere le loro aule con la massima tranquillità e sicurezza a piedi o con mezze alternative ma dobbiamo scontrarci purtroppo queste leudevoli idee che però in questo momento sono più sono da perseguire ripeto con iniziative ma bisogna scontrarsi con quello che è la realtà in questo momento e quindi che i genitori nella maggior parte dei casi escono di casa di corsa lasciano i bambini se possono anche davanti alla porta della scuola come vediamo in questo momento e poi corrono alle loro nei loro posti di lavoro e questo è quello che succede in questo momento e crediamo che un incremento come è stato spiegato di più di 200 auto nelle ore di punta in questa zona già molto trafficata e congestionata non sia sostenibile è stato già richiamato il tecnico della società mobilità la società di Milano che ha fatto lo studio diciamo dell'impatto di questo intervento sulla viabilità parla di ambito densamente popolato vicino alla strada più trafficata di Bra via Trento Trieste impatto sostenibile noi crediamo che a priori non veniamo qui a dire è stato scelto il posto peggiore no noi riteniamo che se tutte le opere ma ripeto tutte complementare la realizzazione della scuola potessero essere realizzate allora forse potremmo parlare di un impatto sostenibile ma noi ad oggi ci facciamo una domanda noi oggi possiamo con certezza con onestà dire sì i 7 milioni di euro che è la cifra del bando sono sufficienti per realizzare tutte le opere beh la risposta ad oggi ed è la nostra idea è certamente no non sono sufficienti e se ci fosse un po' di non voglio dire correttezza ma di linearità tutti potrebbero dire che non sono sufficienti quelle opere che vengono paventate come opere complementari noi le riteniamo opere essenziali ma le riteniamo opere essenziali già adesso in questo momento quella zona della città già in questo momento necessita di rotonde di strade di terze corsie di piste ciclabili già in questo momento senza l'impatto di un nuovo fabbricato queste opere sarebbero necessarie e lo dice anche lo studio a sostegno di questa delibera poi anch'io mi congratulo con gli uffici e con la società e gli uffici tecnici e le società che vengono chiamate devono cercare di concretizzare tecnicamente e rendere fattibili tecnicamente quelle che sono le idee di un'amministrazione e questo devono fare e quindi cercano di trovare le soluzioni per riuscire a far sì che questi interventi possano essere realizzati noi crediamo che queste somme non siano sufficienti per realizzare un intervento di questa portata e qui in questo caso solo con la realizzazione di tutte le opere si potrebbe veramente parlare di riqualificazione dell'area della città di tutta quell'area ma non ci sono i soldi in questo momento che noi siamo chiamati a partire con questo iter che ci è stato detto non è retroattivo noi non possiamo esprimere con certezza nessuno in questa in quest'aula può dirci con certezza sì le cifre sono sufficienti per riqualificare tutta l'area è stato anche toccato l'aspetto economico di questi presunti in questo momento parliamo di presunti ma sicuramente quando si parla di cifre massime purtroppo poi si vede sempre che di poco si discosta da quello che si era parlato quindi parliamo di 300.000 euro per i prossimi 30 anni scusate bene partiamo da un'idea da una nostra idea come gruppo i soldi spesi per fare nuove scuole non sono mai soldi mal spesi però facciamo anche nostre alcune considerazioni dei consiglieri che ci hanno preceduto forse se ne potevano spendere meno forse si poteva scegliere una zona un'area della città che aveva appunto e ribadisco quello che ho detto prima necessità meno necessità di opere complementari per far sì che questo fabbricato potesse essere sostenuto dalla città quindi non siamo contrari e vorrei che il messaggio fosse chiaro a spendere dei soldi e vincolarci anche per qualche anno per realizzare il nuovo plesso scolastici l'abbiamo sempre detto è stato ricordato queste sono idee iniziative che vanno avanti da tanti anni prima ancora di questa amministrazione quindi saremo ipocriti a dire non vogliamo spendere soldi per realizzare un nuovo plesso scolastico però vanno spesi nella misura giusta e in questo caso noi riteniamo che aver scelto questa zona della città ci porterà oggi a spendere più soldi di quelli che avremmo potuto spendere per realizzare la scuola l'intervento da un'altra parte allora in questo momento mi sembra di vedere in questo progetto il vecchio stile di fare politica all'italiana dove si parte da un progetto senza sapere bene dove si andrà a finire un po' come è stato fatto come viene fatto come è in questo momento un esempio eclatante ne sono stati fatti io voglio fare un esempio più vicino a noi che può essere quello dell'ospedale di Verduno dove l'opera è partita è quasi completata diciamo quasi e poi durante la realizzazione dell'opera siamo lì ancora a discutere dove passano le strade dove come ci arriviamo come sarà la sostenibilità dell'opera in quella zona qui non è stato fatto uguale perché sicuramente l'idea e il problema della sostenibilità di aria è stata fatta dall'inizio però il risultato è lo stesso secondo noi verrà realizzato o si prevede oggi partiamo per l'iter per realizzare un intervento un fabbricato in una zona per noi non idonea basta chiedere a qualsiasi cittadino per la strada della nostra città che ci risponde ma perché è stato collocato quel fabbricato in quella posizione perché non è stato fatto da un'altra parte magari in piano magari a cinzano in questo caso mi sembra la stessa cosa e onestamente mi fa sorridere quando leggo delle dichiarazioni del sindaco che ci viene a dire l'idea è piaciuta e anche la scelta del luogo anche noi parliamo con i quartieri con gli interquartieri con i comitati e sappiamo che nella riunione che sono state fatte e qui se lo ricorderanno sicuramente l'assessore Borrelli e l'assessore Messa un mio collega collega non consigliere ma non faccio nomi ma che fa il mio lavoro che fa parte di uno di questi comitati ha definito questo intervento con delle parole dicendo questa mi sembra di nuovo una non posso usare lo stesso termine colorito che ha usato quella persona diciamo anche se non è elegante anche questo mi sembra di nuovo una cavolata ha usato un termine un po' più colorito come i marciapiedi in strada orti questo mi fa pensare che forse le dichiarazioni di l'idea è piaciuta e anche la scelta del luogo non mi sembrano dichiarazioni che possono dirsi condivisi quindi noi non riteniamo che questa zona sia la peggiore o la scelta peggiore no riteniamo però dover essere onesti nel dire che oggi non vi è la possibilità e la certezza economica di dire ai nostri cittadini verranno realizzate prima tutte le opere complementari alla realizzazione del fabbricato perché ed è questa un'idea condivisa da tutti la città va ricucita da quella che è l'oltreferrovia rispetto a quello che è l'altra zona della città noi oggi non possiamo avere la certezza di dire sì realizzeremo prima tutte le altre opere e poi realizzeremo la scuola per questi motivi noi non riteniamo la collocazione di questo intervento nel luogo idoneo per la nostra città grazie grazie a lei adesso la parola al consigliere Cornaglia e poi al consigliere Somaglia prego Cornaglia grazie voglio esordire anch'io con una frase d'effetto speculare a quella del consigliere all'Asia neanche a me piace il sito dove sarà costruita la scuola l'effetto c'è mi piacerebbe che fosse sulla zizzola raggiungibile con una teleferica alimentata di energia eolica e sarebbe straordinario il problema questa ovviamente è una battuta ma da sé quel che mi è piaciuto del dibattito di stasera è che veramente non c'è un'opposizione di tipo ideologico veramente mi sembra che sia scusate ma cinque giorni di concerti la voce è finita ci sia veramente un desiderio di contribuire all'interesse comune e le opposizioni sostanzialmente sono di ragione molto pragmatica e pratica non c'è un'opposizione che rimandi alla logica degli schieramenti ed è una cosa piacevole da constatare credo che l'opposizione fondamentale sia quella relativa alle complicazioni di traffico eccetera eccetera che comporterebbe la costruzione dell'edificio in quel sito e sono comprensibili obiettivamente sono comprensibili è una preoccupazione che ha ovviamente colto anche noi non è che non ce ne siamo opposte nel frattempo alcune risposte sono state date alcune ipotesi sono state formulate io sono convinto che si possa fare di più è meglio se veramente nell'interesse di tutti perché non mi pare di aver colto da nessuno degli interventi la sensazione che la scuola non stia bene non vada bene lì in quel sito perché in effetti è così perché la scuola è un'istituzione che fa da presidio del territorio che rappresenta il territorio a volte è necessario che le scuole vengono costruite in periferia perché devono andare a presidiare un territorio e io sono sicuro che in questi anni la media dalla chiesa la scuola la mia mia non è mia ma comunque la sento mia diciamo la scuola frango gioetti hanno contribuito a presidare quel territorio che qualche anno fa quando io sono arrivato a vivere a Brava veniva definito come il Bronx e probabilmente ora non lo è più la scuola lì è in una posizione straordinaria e strategica la scuola deve essere collegata deve avere a portata di mano gli altri strumenti per lo sviluppo formativo dei ragazzi deve avere la biblioteca vicina deve avere il polifunzionale deve avere gli impianti del palazzetto sportivo come diceva prima di me il consigliere Gaia questi sono momenti in cui io vorrei tanto essere un architetto un ingegnere e ve la farei vedere un geometra ma magari magari poi perché avrei più argomenti sicuramente e anche più competenza poi mi ricordo che sono un maestro e va ben pare e tutto sommato mi piace però è ovvio che la scuola lì funziona e perché non andrebbe bene a mio modestissimo parere per esempio in piazza Arpino intanto perché sarebbe quasi attaccata alla scuola media dalla chiesa e vorrebbe dire anche in una impostazione di tipo geografico territoriale avrebbe poco senso in via Gabotto secondo me anche per ragioni logistiche oltre che per questo ma poi soprattutto perché corrisponde a una cultura a una visione della città che è quella di portare il traffico verso la periferia ovvero di sostanzialmente suggerire alle famiglie di far salire i loro figli in macchina per accompagnarli a scuola che è esattamente l'opposto del principio che secondo me dovrebbe ispirare noi io credo che alcuni di noi stiano già stiano già pensando a ricandidarsi per le prossime elezioni e sicuramente tutti voi ci metto anche io dentro ispirati in perfetta buona fede abbiamo una visione della città abbiamo un'immagine di quello che ci piacerebbe fosse la nostra città nei prossimi anni e purtroppo non possiamo assolutamente mettere da parte questa cosa che le automobili la dittatura delle automobili della nostra città deve finire che le auto dal centro progressivamente si devono allontanare perché così si fa in tutto il mondo così si fa da anni nelle città del nord Europa perché è rimasto forse solo Trump e Deng Xiaoping e qualche altro in giro per il mondo perché sostiene delle lobby molto potenti ma noi dobbiamo renderci conto che la mobilità sostenibile che ovvio si presta a facili battute adesso però la mobilità sostenibile è il futuro della nostra città e non ce n'è un altro bisogna ancora fare moltissimo io quando ho pensato questo intervento poi il collega Tripodi me l'ha ricordato fuori mi ha detto voglio proprio vedere cosa dici da maestro e ovvio io da maestro sto dentro alla scuola quindi la mia posizione è diversa però io parlo da referente del CCR il consiglio comunale dei ragazzi che ha dedicato due anni gli ultimi due anni a parlare di mobilità sostenibile e guardate che i ragazzi non desiderano altro che di poter arrivare alla scuola a piedi in bicicletta qualcuno diceva con l'overboard che io ho scoperto poi che cosa fosse ma è ovvio che è un desiderio che si coniuga con il loro desiderio di indipendenza dell'autonomia ma è veramente un bisogno forte abbiamo fatto un video non so se qualcuno di voi ha avuto modo o pazienza di vederlo che era anche sul sito del comune dedicato alla mobilità sostenibile i ragazzi ci hanno lavorato per due anni e io mi sento anche nei loro confronti debitore per lo sforzo che hanno fatto per i ragionamenti che hanno fatto senza nessun tipo di pressione l'auspicio di tutti è che si trovino insieme ovviamente io non ho mai fatto interventi divisori ne ho fatti anche pochi in consiglio comunale e mi limito proprio a parlare quando penso che possa essere di qualche utilità per il dibattito ma l'intento di tutti deve essere riuscire a creare una situazione per cui a scuola si va da piedi in bicicletta con questo maledetto overboard e si possa raggiungere in totale sicurezza e sia una scuola è ovvio che non è proponibile ritornare alla vecchia scuola di via Barbacana ma non soltanto per gli interventi di sicurezza che andrebbero fatti perché è una logica architettonica che risponde a un'aspirazione diversa alla classica vecchia scuola con un lungo corridoio tutte le porte su un lato uno solo che passa spia per controllare che tutto funzioni adesso le scuole sono fatte di ampi spazi di atri perché servono per incontrarsi ovviamente quindi rispondono a una cultura pedagogica e architettonica diversa l'idea di poter avere una scuola nuova certo è un investimento pazzesco che fa venire i brividi ma è ovvio una cifra di questo genere spaventa tutti ha spaventato me per primo è vero che siamo cinque mesi dalle elezioni è anche vero che se fossimo a un anno delle elezioni vista la durata del mutuo purtroppo cambierebbe ben poco però è un impegno che secondo me va anche valutato nella misura del coraggio è un'amministrazione che ha il coraggio di investire sulla scuola guardate bene non è come spostare la destinazione d'uso di un'area per farlo un'area industriale qua si parla di un ritorno lunghissimo in termini elettorali tra l'altro la scuola verrà completata ci vorrà sicuramente qualche anno quindi non è neanche per torno a conto elettorale che si fa un investimento di questo genere si fa un investimento sulla mobilità sostenibile sulla scuola poi io sicuramente potrò sbagliare vedo sicuramente la mia opinione vale come tutta quella degli altri va da sé però io credo che sia un investimento di tale coraggio e di tale portata che varrebbe la pena di farci una riflessione in sopra tutti insieme e valutare se davvero esistono alternative più credibili e più funzionale rispetto a questa grazie grazie a lei consigliere ha chiesto la parola al consigliere Somaglia prego grazie presidente mi sono appuntato in questi giorni e stasera alcune cose ma parto da alcune considerazioni che poc'anzi ho sentito dal consigliere Cornaglia allora la prima è che poi magari riprenderò nel mio intervento è quello di portare il traffico fuori ecco qui stiamo dibattendo di un progetto che il traffico lo incrementerebbe dentro al centro cittadino la riflessione noi la riflessione l'abbiamo fatta invitiamo chi ha proposto il progetto a farla questa sera e magari anche più avanti e poi la visione della città certo bisogna avere coraggio bisogna avere una visione delle città noi nei prossimi mesi diremo qual è la visione della nostra della città di Bra che noi vogliamo il progetto la variante che viene proposta questa sera e quindi il progetto di ubicazione della scuola in una zona nevragica di Bra c'è stata comunicata in conferenza di capigruppo se non ricordo male prima dell'estate del 2018 febbraio allora ricordavo male marzo prima dell'estate ho detto bene anche se anche se anche se abbiamo appreso che l'iter è partito nel 2015 allora anch'io sono andato a prendermi i programmi elettorali dell'ultima tornata e neanche io ho trovato traccia di questo progetto e allora ancora di più è stato lo stupore quando a febbraio marzo o quando è stato ci è stata comunicata l'idea e la partenza di questo progetto e questo è un punto a scanso di equivoci l'hanno già detto tanti miei colleghi è corretto che si dibatta e che si prenda in considerazione la problematica di un'ubicazione diversa della scuola media più matti forse oggi non si chiama neanche più così scusatevi ma io la ricordo ancora in questa maniera perché il sito attuale presenta dei problemi strutturali importanti se non mi sbaglio perché anche noi parliamo con molti insegnanti l'ultimo piano non è addirittura agibile quindi sicuramente deve essere pensata una un'ubicazione e uno spostamento o comunque qualcosa che risolva questo tipo di problemi allora per quanto riguarda l'ubicazione è già stato ben detto dai colleghi che mi hanno preceduto che i motivi sono stati elencati i motivi che ci trovano fortemente scettici sull'ubicazione che viene presentata sono problemi essenzialmente principalmente di incremento del traffico problemi quindi che hanno dei risvolti ambientali con l'aumento del traffico le criticità ambientali vanno ad aumentare io ne aggiungerei un altro che è quello dei parcheggi in quanto sicuramente l'ubicazione di una scuola in quella zona porterebbe comunque un incremento di fruibilità della zona e di conseguenza la richiesta di parcheggi aumenterebbe mi pare anche che con la realizzazione della terza corsia gioco forza dovranno essere eliminati penso una striscia di parcheggi su piazza Nasseria presumo perché se no non so bene dove possano passare quelli adiacenti a marciapiede presumo ma tornando l'ubicazione c'è stato detto che la scelta è ricaduta su quella zona lì ma non c'è stato detto quali sono stati i ragionamenti fatti su altri siti non c'è stato detto non ci sono state neanche riportate quali sono state le motivazioni perché siano stati scartati altri siti tornando al periodo in cui ci è stato presentato il progetto che è di qualche mese fa allora una domanda mi viene che è quella perché tutta questa fretta perché le riflessioni perché il tempo per le riflessioni che a cui ci rimandava il consigliere Cornaglia non può andare ancora avanti noi in questi in questi anni ce ne deve darato l'amministrazione abbiamo sempre cercato di portare il nostro contributo e ci siamo anche permessi in diverse occasioni di portare dei suggerimenti che sono stati in gran parte vani non vorrei che anche in questo caso tra qualche anno se questa iniziativa andrà avanti ci possono essere dei ripensamenti in quel senso lì due l'abbiamo già ricordati molte volte in quest'aula sono stati in particolare per quanto riguarda per esempio la riqualificazione di via principi riqualificazione che ci ha trovati d'accordo nell'oggetto ma più volte abbiamo sottolineato che i materiali utilizzati non erano assolutamente idonei e dimostra lo stato attuale dei marciapiedi di via principe l'altro è stradaorti più volte abbiamo detto e chiesto che ci fosse un ripensamento perché tale opera con un investimento importante di risorse pubbliche che siano comunali che siano regionali sempre di risorse pubbliche si tratta per noi era quasi superfluo e in effetti l'utilizzo dei marciapiedi in stradaorti sfido quiunque a dire che sia un utilizzo frequente qualcuno diceva che sicuramente quest'opera qui se verrà realizzata lascerà il segno ecco io mi chiedo quale sarà il segno che lascerà perché le criticità che ho sentito da parte di molti questa sera mi fanno pensare che il segno possa essere non così positivo poi lasciamo se andremo avanti ai posteri la valutazione di quale potrà essere il segno allora con piacere ho sentito le parole del consigliere Ferrero riguardo al al passaggio pedonale e dico finalmente perché noi più volte sia in questa sala che nelle commissioni competenti abbiamo sottolineato che la soluzione dell'annoso problema di traffico davanti alla stazione ferroviaria passava anche attraverso una soluzione dei passaggi pedonali noi abbiamo pensato a una soluzione sia di passaggio pedonale interrato e pensato anche a una soluzione di passaggio pedonale sopraelevato e poi il passaggio livello dal 1985 si parla di questa soluzione sono d'accordo che quando si si è un amministratore attento bisogna anche avere dei progetti visionari però però i progetti visionari devono poi far far pari col coraggio di a un certo punto chiudere alcuni capitoli ed eventualmente di aprirne altri e mi pare che oggi e con piacere sento perché ne avevo un po' perso le tracce che c'è un progetto quasi definitivo però temo temo che manchino le risolte una battuta permettetemela perché è tanto tempo che non sentivo parlare di Berlusconi adesso sembra che anche sia colpa di Berlusconi il fatto che Abrano sia stato realizzato all'interramento dei binari io chi mi conosce sa che non sono mai stato berlusconiano però voglio dire richiamarlo in ballo mi fa sorridere veramente e dopo il governo Berlusconi ce ne sono stati molti altri anche di segni politici diametralmente opposti ma la realizzazione e la visione di uno stanziamento così cospicuo per interrare i binari Abrà penso che non l'abbia preso in considerazione nessun tipo di governo di nessun colore e poi prima di dare la dichiarazione di voto salvo riflessioni che vengano da più parti mi rimane un rammarico che è quello che in tanti anni di consiglio comunale e penso di poter parlare anche per gli altri consiglieri della minoranza ma soprattutto per l'amico Marco con cui abbiamo condiviso un percorso molto lungo noi su quasi tutte le varianti proposte per insediamenti produttivi che comunque qualificassero in qualche maniera la nostra città in qualche maniera importante siamo sempre stati d'accordo abbiamo portato il nostro contributo e abbiamo votato quasi sempre in maniera favorevole questa volta purtroppo salvo riflessioni di ultima ora il nostro il nostro parere è fortemente contrario grazie grazie allora ricordo che chi ha già fatto l'intervento ha a disposizione ancora cinque minuti e poi eventuali cinque per dichiarazione di voto purché non sia poi il quarto intervento prego consigliere Tripodi grazie presidente ho ascoltato con attenzione gli interventi che si sono susseguiti da parte di tutti i consiglieri del sindaco e quant'altro voglio vorrei un attimo mettere in chiaro una una questione soprattutto abbiamo parlato di un'opera un investimento necessario necessario perché siamo convinti non ho sentito obiezioni diverse o comunque contrarie per il fatto che la scuola in futuro dovrà essere trasferita questo è condiviso da tutti vedo vediamo che la cosa non condivisa è quello che è il posizionamento e tra le sfumature nel condividere e non condividere il posizionamento e la realizzazione di quell'opera ci sono dei fattori che secondo me sono determinanti per far sì che alcuni e posso parlo anche a nome del nostro gruppo potrebbero far ripensare o comunque ragionare maggiormente e ulteriormente su questa posizione le questioni sono due scuola da riallocare due analisi concreta veramente direi seria per quanto riguarda tutta la questione viaria di quella porzione di città sa noi personalmente nel momento in cui avessimo certezze che questa amministrazione o comunque chiunque è ha l'obbligo il dovere di amministrare la nostra città avesse delle certezze per quanto riguarda la questione viaria di quel comparto della nostra città perché la prima cosa è trovare l'obiettivo per unire la nostra città se un progetto dove l'idea è iniziato dal 1985 e ad oggi forse siamo arrivati ad un progetto definitivo e siamo forse convinti tutti quanti che per trovare i fondi per la costruzione di quel determinato progetto ce ne vorranno ulteriori di anni se in questo momento tutti noi facessimo facessimo un ragionamento da buon padre di famiglia troppi anni troppo visionario quasi fantasmagorico facciamo un passo indietro facciamo un ragionamento molto più concreto ci sono alternative a questo interramento sì no se ce ne sono che costano meno che possano essere sostenibili vediamolo confrontiamoci in maniera seria perché se la questione principale è la questione traffico e congestionamento del traffico soprattutto in un'arteria della nostra città e allora stiamo lì valutiamo seriamente perché se questa qui è ritenuta un'opportunità quella di rialloccare la scuola perché è una posizione centrale perché è vicina ai servizi perché è vicina alla biblioteca perché è vicina a quant'altro tutto quello che è stato espresso dal consiglier Gaia dal consiglier Nino Cornaglia e da molti allora se questa è la convinzione per prendere una decisione così importante che comunque vincola l'amministrazione il nostro comune per trent'anni cerchiamo di trovare un momento per condividere veramente e non semplicemente di facciata una importante opera che dovrà essere fatta nel nostro territorio io cercando di confrontarmi in questo momento scusi Presidente solo un attimo anche con i dirigenti sì anche con i dirigenti ci sono i tempi ci sono i tempi per poter valutare e veramente essere coraggiosi perché essere coraggiosi significa non solo ed esclusivamente prendere delle scelte ma mettere in discusione quello è coraggio questa quello è democrazia non significa semplicemente prendere delle scelte il coraggio significa condividere le scelte questo è un metodo nuovo di far politica e questa la politica dovrà essere perché se questo progetto se questo intervento è un qualcosa che è studiato valutato da mesi e mesi e noi non ne sappiamo nulla e che a fine mandato venga imposto e vincolata l'amministrazione per poter fare questo progetto io credo che questa amministrazione non ha coraggio non ha coraggio di condividere le scelte perché è in quel momento in quel modo che si amministra la città tutti i momenti e tutti i modi in cui questa città ha condiviso le proprie scelte ha fatto bene e in questa occasione non la perda sindaco di fare un passo indietro di fare un passo indietro nell'interesse generale della nostra città e di rivalutare non è una sconfitta elettorale o sempre tornare indietro è un modo per dire ho il coraggio di condividere delle scelte ho il coraggio di condividere una scelta che vincolerà per trent'anni tutta l'amministrazione e le amministrazioni seguenti quindi vi chiedo gentilmente umilmente e lo chiedo a nome di tutto quanto il gruppo di prendere questa variante portarla di nuovo per cortesia dove nelle proprie commissioni rivalutare rivalutare le scelte e utilizzare veramente il coraggio che si dice di avere per fare veramente una politica seria e abbiamo il tempo il progetto dovrà essere presentato come bando abbiamo il tempo fino a fine 2019 la variante avremo bisogno di tre mesi quindi ci sono i tempi per avere coraggio di condividere questa scelta scusi 5 minuti sono passati da 3 minuti abbia pazienza chiuda chiuda quando questi pochi minuti valgono il vincolo di 30 anni mi dispiace se io non riesco a stare nei tempi grazie grazie abbia pazienza ma un conto sforare di 2 minuti su 15 un conto su 1 sfora di 2 di 3 4 minuti su 5 poi la percezione del tempo la percezione del tempo è diversa dal tempo misurato la percezione è personale però posso capire tutto chiedo uno sforzo di rimanere nei tempi consigliere no aspetta allora prima aveva chiesto Elena prima aveva chiesto consigliere Elena prego poi consigliere Marengo non mi pare ci fosse qualcun altro prego consigliere Elena sì grazie presidente ma sono molto molto breve mi sembra che la discussione sia stata cioè fino un po' all'ultimo intervento di Tripodi era calma e pacata cioè costruttiva poi per carità non è che abbia detto delle cose l'ha detto in modo un pochettino pervorato però potrebbero anche essere condivisibili perché in effetti abbiamo sentito anche da tutti i consiglieri che c'è dibattito su questa delibera c'è il dibattito su questa variante quindi c'è effettivamente c'è discussione poi c'è da parte della minoranza poi anche da parte della maggioranza quindi è un tema quindi abbastanza che ho sentito perché è una decisione importante quindi anch'io in modo molto molto più paccato dico magari c'è una maggiore riflessione se si può avere sul condividere magari di rivedere magari il discorso sul posizionamento di questa scuola oppure se non sarà così lì almeno c'è avere dico tra virgolette delle garanzie su quello che è stato chiesto magari sulle opere accessorie magari di fare più un'attenta proprio valutazione su tutto il contorno che quest'opera andrà a influire perché in effetti c'è qualche contraddizione perché io capisco che la mobilità sostenibile sono d'accordo bisogna favorirla però appunto la mobilità sostenibile è un punto in cui il traffico veicolare e tanto non è che anche a me piacerebbe la città senza macchine però lì ci passano le macchine e la circolazione interna di Brano non scondiamoci è così non è che possiamo togliere il traffico da quella zona lì e quindi per quello che la nostra posizione è andare a mettere lì va un po' in contrasto con la mobilità sostenibile intendo quindi i pedibus i mezzi le piste ciclabili è un punto critico da quel punto di vista per questo le nostre perplessità e quindi se ci sono degli interventi che potranno essere fatti poi magari quando io adesso mi è stato chiesto di ripensare sulla variante non penso che l'amministrazione adesso non so poi se per carità se lo fa io lo accolgo ben volentieri però se va avanti sul discorso del cambio di destinazione d'uso almeno poi mettere delle fasi diciamo nelle fasi successive del progetto veramente andare poi a pensare bene il discorso della pianificazione urbanistica e sono d'accordo con quanto ha detto il consigliere Ferrero che dice che effettivamente è un'area che ha bisogno di una rigenerazione io sono d'accordo però l'ho già detto prima sono d'accordo però a non mettere una scuola cioè rigeneriamola ci sono tante altre cose parcheggi che magari servirebbero come si suol dire come il pane in quella zona lì zone verdi però una scuola non la vediamo bene consigliere Gaia ha detto ha sottolineato che invece giustamente secondo il suo punto di vista che la posizione potrebbe cioè può essere buona perché siamo in vicinanza dell'altra scuola dell'asilo della biblioteca eccetera noi abbiamo fatto l'esempio dell'ex fornace ma anche lì siamo vicino ai pianti sportivi a un'altra scuola alle piscine coperta è più facile arrivarci con la tangenziale cioè motivazioni ce ne sono da una parte dall'altra di valutazioni del sito quindi per questo che magari un approfondimento maggiore magari secondo il nostro punto di vista poteva poteva essere fatto magari insieme precedentemente e niente quindi concludo non so se dobbiamo già fare la dichiarazione di voto non so presidente ma possiamo anche farlo ancora dopo magari un altro intervento grazie a lei anche perché è stato nei cinque minuti netti spaccati complimenti un più sul registro visto che siamo a Natale c'era il consigliere Marengo prego grazie presidente ma credo che resterò anch'io nei cinque minuti canonici ho ascoltato con molta attenzione spiace sia uscito l'intervento del consigliere Cornaglia eccolo qui che torna e devo dire che l'ho apprezzato davvero molto ho apprezzato il fatto che si sia notata che da parte nostra e lo dicevo nel mio primo intervento non ci sia stata una pregiudiziale di sorta abbiamo cercato di fare il nostro dovere come consiglieri comunali cercando di essere come sempre propositivi e certo avremmo voluto e potuto dire la nostra magari fin dal primo minuto fin dal momento in cui si è decisa l'ubicazione della scuola lì purtroppo abbiamo avuto modo di parlare lei non è nella commissione né urbanistica né lavori pubblici e quindi magari non lo sa però abbiamo avuto modo sostanzialmente di parlarne in due commissioni congiunte e non più sul fatto della mobilità sostenibile siamo tutti assolutamente d'accordo io credo che le città del nord Europa che lei citava sono un esempio per tutti il problema è che questo desiderio diventa difficile trasformarlo poi in un in un dato di fatto in un modo di vivere un modo di gestire il proprio tempo anche con i mezzi con i propri mezzi noi oggi abbiamo già una situazione difficile che è la situazione di via Barbacana perché se è vero che dobbiamo spostare la scuola ed è questa l'origine della nostra obiezione in centro storico la scuola c'è da decenni l'ho fatta anch'io la scuola in via Piumanti io allora andavo a piedi oggi vedo invece i genitori proprio perché è cambiata è cambiato il mondo è cambiata la vita oggi i genitori lavorano entrambi nella maggior parte delle famiglie quindi i ragazzi vengono accompagnati a scuola e spesso lo si fa perché a differenza di quando facevo le scuole medie io e non parlo addirittura delle elementari oggi questi ragazzi sembrano degli scerpe i malaiani vanno a scuola con degli zaini delle cartelle enormi e quindi magari il genitore lo accompagna ma lo accompagna anche come dicevamo prima nel mio intervento ma l'ho detto anche nelle varie commissioni lo accompagna semplicemente perché è di strada deve andare al lavoro e lo lascia e lo accompagna a scuola ma oggi in via Barbacana questa situazione c'è già tant'è vero che se si passa alle 8 del mattino le strade intorno sono chiuse proprio per evitare l'intasamento delle auto in zona proprio perché se non si chiudessero le strade probabilmente quelle vie sarebbero congestionate però mi fa piacere ecco che lei abbia fatto queste considerazioni e che abbia notato i toni pacati con cui noi abbiamo cercato di fare le nostre proposte perché anche quando abbiamo ipotizzato un'ubicazione diversa che possa essere via Gabotto che possa essere la ex Fornace non abbiamo semplicemente indicato quel luogo e basta abbiamo anche motivato il perché questi luoghi secondo noi possono andare bene e al di là del lato economico di cui parlavo prima anche dal punto di vista della mobilità semplicemente si potrebbe nel caso della ex Fornace tanto per fare un esempio bypassare il centro cittadino utilizzando quella che oggi è la tangenziale di Brahe e che è sostanzialmente inutilizzata immaginiamo tutti coloro che arrivano da oltre ferrovia e che devono raggiungere la scuola non passerebbero certo per il centro sarebbe molto più comodo quindi si decongestionerebbe il centro cittadino ma nello stesso tempo se quella fosse l'ubicazione e a noi avremmo potuto e voluto dire la nostra se ce ne fosse stata data la possibilità non è stato così come molto spesso in passato arriviamo a cose fatte dobbiamo discutere ma tanto come diceva giustamente il consigliere Maggiù prima la decisione è presa ne discutiamo ma tanto non si torna mai indietro ma se fosse quella l'ubicazione come dicevo pensavamo e abbiamo suggerito nella commissione congiunta urbanistica lavori pubblici per esempio di aumentare il numero di pulmoni o di pensare una nuova mobilità pulmini urbani che dal centro possano in determinate ore del giorno andare e tornare dalla scuola quindi semplicemente non uno spostare il traffico dal centro alla periferia ma pensare un modo nuovo di raggiungere quella scuola l'utilizzo del mezzo pubblico potrebbe essere veramente una panacea per il male legato al traffico ecco se ci fosse stata data la possibilità noi queste cose le avremmo dette non in veloci commissioni che magari durano un paio d'ore e in cui difficilmente poi magari si può rendere bene il proprio pensiero purtroppo è ragione l'amico Tripodi arriviamo a questo punto non si viene coinvolti e quindi i nostri pensieri e le nostre idee restano tali solo sulla carta per tutte queste motivazioni e per tutto quello che è stato detto prima non soltanto dal sottoscritto ma da tutti i consiglieri del centro-destra ma non solo di tutta la minoranza ecco che il nostro pensiero non può che essere negativo sulla scelta di quella dell'ubicazione adesso però mi taccio perché non so se ho sforato ma va bene così ok prima che lei suoni allora mi taccio grazie in effetti ho fatto un timidissimo suono che lei non ha percepito ma io l'ho fatto ma ho capito che si stava avviando la conclusione grazie consigliere Gaia prego cerco di essere velocissimo comprendendo anche la dichiarazione di voto mi è piaciuto moltissimo l'intervento del consigliere Cornaglia quando parlava di mobilità quando parlava di quello che pensano i ragazzi cioè che vogliono andare a piedi io sono un fautore della mobilità pedonale se vogliamo giro moltissimo a bra a piedi a volte trattengo il respiro a volte trattengo il respiro perché in certi momenti quando ci sono più macchine l'aria diventa irrespirabile quindi io sono convinto che la centralità di quella scuola permetterà sicuramente al 60% di andare a piedi andare a piedi camminare fa bene fa bene alla nostra età fa bene ai ragazzi fa bene a tutti ecco quindi il voto del nostro gruppo non so se a nome della maggioranza ci dichiariamo favorevoli alla variante grazie 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 consigliere Gaia consigliere all'Asia presidente io volevo fare un intervento però vorrei sapere se c'è una replica da parte della giunta agli interventi perché i 5 minuti successivi sono una contro replica alla replica solo per capire è vero grazie quindi prego sindaco allora io credo che questa sera ci sia stato un dibattito molto serio molto approfondito che ha permesso di affrontare varie questioni questioni di portata importante d'altronde stiamo scegliendo una da costruzione di una scuola e allora vorrei soltanto ricordare una per chi non fosse stato presente nel mandato nel mio primo mandato amministrativo che è vero insieme all'assessore russo si tentò con l'ingegner Novello di di fare la cittadella della degli studi superiori nella zona delle piscine e lo spostamento contestuale se salite nel mio cassetto che è sempre aperto ci sono i progetti i vari progetti c'è un progetto fatto da Novello con le valutazioni comprese le valutazioni delle vendite dei due purtroppo occorre dire che l'intendimento di due persone che si muovevano da posizioni politiche diverse ma con un obiettivo comune è stato totalmente ostacolato dalla presidente della provincia che in quel momento ha bloccato quel progetto progetto che di cui non si è arrivati si era arrivato ad un protocollo si era arrivato ad un protocollo ma non si fecero passaggi ulteriori perché di lì avanti la storia la la conoscete nel senso che sono finite le province c'è stata tutta una serie di questioni eccetera certamente nella prima fase io ho ancora tentato nella prima fase in cui ero in provincia di rilanciare questa cosa ma la situazione era talmente drammatica dal punto di vista dei conti e dal punto di vista più generale che non venne affrontata ma proprio se chiunque in questo momento voglia andare io ho un cassetto dove ci sono una serie di progetti e lì dentro c'è il progetto un progetto diciamo uno studio di fatibilità non un progetto uno studio di fatibilità con delle indicazioni insomma come lavora come lavora l'ingegnare Novello con l'indicazione di della vendita dei due edifici la possibilità di spostare le piumatti al guala e il fare in piazza esedra l'area delle scuole superiori credo che successivamente chiusa questa possibilità voglio evitare questioni polemiche proprio voglio solo tanto voluto dire che questa cosa è stata bloccata dalla presidente e dalla segretaria che di fatto comandavano la provincia in quel momento e penso che ci fosse qui russo potrebbe confermare questa cosa siamo arrivati appunto fino alla firma di un protocollo intesa però non riuscimmo ad andare oltre di lì abbiamo cominciato sapendo che la scuola Piumatti doveva essere spostata e lo doveva da quando nel piano regolatore abbiamo messo un cambio di destinazione dell'edificio scuola Piumatti cambio di destinazione che può avvenire nel momento in cui sia costruita una nuova scuola e questo lo condividemmo tutti dopodiché siamo andati a cercare i vari terreni sui quali vi erano delle possibilità e abbiamo valutato gli aspetti positivi e gli aspetti negativi e la valutazione degli aspetti positivi e negativi ci ha portato anche perché si tratta di una scuola media non di una scuola superiore dove i ragazzi possono andare in motorino andare arrivare in forme diverse addirittura addirittura c'è persino una fermata nella servizio ferroviario metropolitano c'è persino una fermata all'altezza della scuola che si chiamava madonna fiori no? e quindi questa questa questo elemento è un elemento che in cui credevamo ma quando non si realizza cerchi delle altre soluzioni altre soluzioni rispetto ad una scuola media devono stare in una zona che sia un po' dislocata rispetto all'altra scuola media che sia più in centro possibile compatibilmente con la possibilità di raggiungimento ed ecco che questa idea del aprire con RFI una trattativa è legata al fatto che lì abbiamo individuato in una zona che ha diverse scuole che ha la biblioteca che ha un centro in qualche modo scolastico ed è facilmente raggiungibile abbiamo individuato lì l'area devo dire la proposta che lei ha fatto consigliere Elena è stata presentata in giunta dall'assessore Borrelli non è ed è anche stata oggetto di una richiesta alle ferrovie di farci un progetto uno studio di fattibilità quindi tanto per dire che abbiamo sulle varie questioni abbiamo delle opinioni che trovano una sintesi comune detto detto questo io credo che noi questa sera presentiamo questa variante ovviamente cogliendo i suggerimenti le indicazioni che sono arrivate dalle vostre indicazioni ce ne sono di accoglibili che assolutamente dobbiamo immaginare di fare nostro non mi spavento del fatto che si voti una roba così importante a tre cinque mesi dalle elezioni si è votato l'ultimo consiglio comunale quarant'anni di prosecuzione del servizio idrico si è votato io sono vecchia di questa esperienza nell'ultimo consiglio comunale in una serie di situazioni si sono votate cose molto più grosse anche dal punto di vista dell'impatto sulla città nell'ultimo consiglio comunale quindi devo dire si gestisce sino all'ultimo momento utile e poi chi vivrà va avanti prende e decide se mantenere la continuità amministrativa o che cosa fare di questo progetto grazie al sindaco consigliere all'asia prego presidente dovrò correre molto perché ho preso molti appunti rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi partivo dall'intervento presidente del consigliere Cornaglia che è stato sì suggestivo ma secondo me totalmente fuori quadro fuori quadro perché gli obiettivi di mobilità sostenibile dovrebbero essere perseguibili indipendentemente dalla zona di insediamento della scuola cioè i problemi di accesso alla scuola ce l'abbiamo già adesso nulla è stato fatto in questi anni per risolverli e il problema dell'accesso sicuro dei ragazzi alle scuole è dovuto proprio al fatto che permettiamo alle macchine di arrivare fin davanti alle scuole quello è un vero problema di sicurezza di accesso alla scuola e c'è un grande fraintendimento quindi attenzione non è che quella posizione lì miracolosamente farà cambiare atteggiamento alla maggioranza sulla mobilità sostenibile perché se non l'ha fatto in questi anni in queste due legislature sulle scuole esistenti non è che automaticamente lo farà sulla nuova scuola e questo è il fraintendimento del suo intervento e poi c'è un'altra questione anzi no questa l'affronterò dopo la questione invece del coraggio io qui non vedo nessun coraggio vedo la necessità di investire su una nuova scuola il coraggio secondo me sarebbe altro e lo dico alla fine del mio intervento per quanto riguarda la questione del traffico ecco si è detto fin da subito abbiamo deciso di investigare sulla questione della viabilità non è assolutamente vero perché dal 2015 avevate questa impostazione lo studio è uno studio raffazzonato dell'ultimo momento di due mesi fa e non raccoglie nessuna idea di quelle che sono state enunciate non c'è un progetto organico che infatti sia trasferito nella cartografia della variante ma semplicemente si dice mobilità sostenibile e quindi una pista ciclabile attorno alla scuola e una corsia che non è una corsia perché è uno spezzone che in realtà funzionerà da parcheggio per i bus nient'altro non c'è nessun altro ragionamento uno dei ragionamenti che si diceva proprio a sostegno di questo studio era che questa scuola permetterebbe un accesso più facile per più studenti alla scuola a piedi si dice fino al 60% basato in realtà su delle previsioni non chiarissime ora siete andati a vedere la densità delle famiglie nei centri nel centro cittadino sapete dove sono distribuite non l'avete visto allora vi dico io che tra le zone centro storico bescurone madonna fiori cade il bosco san matteo si concentrano i due terzi dei nuclei familiari e i due terzi della popolazione ebraidese ora considerando poi che le tre frazioni e pollenzo non potrebbero venire a piedi in bicicletta alla scuola userebbero la tangenziale ma se noi facciamo la scuola vicino al movicentro sicuramente non userebbero la tangenziale passerebbero dal passaggio livello o dalla seppur trafficata via vittorio veneto quindi dal punto di vista della densità dell'utenza stiamo costruendo non dalla parte giusta ma dalla parte sbagliata poi si è citato il dm 75 come linee guida per le costruzioni di nuovi edifici scolastici e ci sono anche delle nuove guida più recenti linee guida recente che sono del 2013 io le leggo e capirete che le linee guida indicano chiaramente perché la scuola non ha senso che sia localizzata qua sono praticamente identici allora le scuole devono essere edificate lontane da depositi e da scuole di materiali di rifiuto da questagnanti da strade di grande traffico da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive la stessa cosa viene detta nelle linee guida più recenti del 2013 le aree esterne 2013 devono essere alberate con luoghi di relax e di sosta per gli studenti e nelle situazioni di maggiore complessità dovranno prevedere ingressi e spazi di sosta dedicati al pubblico ora capite che in un ambiente con alto traffico alta contaminazione quindi da traffico alto livello di rumore ambientale questo non contraddice i presupposti della localizzazione della scuola pubblica devo dire che la questione delle piste ciclabili abbia pazienza poi mi tolgo il minuto mi tolgo quello che sforo dalla dichiarazione di voto quello che si è detto sulle piste ciclabili io insisto non è stata disegnata nessuna pista ciclabile e nessun raccordo grazie a Dio ho incominciato a fare qualcosa solo quest'anno sulle piste ciclabili dopo un po' di sollecitazioni ma nella cartografia della variante che presentate non c'è nulla non c'è nulla e noi siamo qui chiamati a deliberare su questo la questione del traffico della terza corsia della seconda corsia non sono idee dell'ingegner Gaia ma sono idee che ci sono da parecchi anni e che anche nei comitati interquartieri vengono proposte da parecchi anni però non è necessario non è necessario costruire la scuola per mettere in pratica queste idee sono necessari interventi di rigenerazione urbanistica ma non necessariamente gli interventi di rigenerazione urbanistica devono prevedere la scuola soprattutto se faccio un intervento di nuovo insediamento di un plesso scolastico questo deve essere insediato in un'area di rigenerazione che abbia le caratteristiche per esempio che leggevo prima secondo i termini di legge secondo le linee guida per l'insediamento di un plesso scolastico c'è anche poi la questione dei soldi attenzione 300 mila euro l'anno non sono pochi e se noi facessimo un mutuo per il finanziamento previsto dei circa i 7 milioni saremmo poco discosti dalla spesa prevista dei 300 mila euro ora l'obiettivo sarebbe quello di fare un intervento che richiederebbe interventi urbanistici più bassi in modo da poter affrontare anche indipendentemente dal finanziamento dell'INAIL l'intervento dell'insediamento della nuova scuola concludo che cosa sarebbe coraggioso visto che parliamo di una scelta molto importante per la città sotto tutti i punti di vista sarebbe coraggioso se si ritirasse questa proposta di variante e si affrontasse con la cittadinanza con tutta la cittadinanza un percorso di condivisione dell'idea di proposta di alternativa perché l'alternativa che viene proposta dell'ex fornace è una buona alternativa sotto moltissimi punti di vista dal punto di vista della vicinanza con altre scuole ed è tutt'altro che folle il fatto che si avvicina un'altra scuola media perché quella scuola lì sarebbe l'unica che ha la scuola musicale già adesso si potrebbero creare delle sinergie tra i due plessi scolastici gli impianti sportivi ci sono c'è l'accesso dalla tangenziale per chi è costretto a muoversi con l'auto e ci sono già disegnati sul piano regolatore percorsi di piste ciclabili per l'accesso alla scuola quindi il coraggio sarebbe ritirare la proposta di variante discuterne con la cittadinanza cioè fare veramente un percorso condiviso e allora sì che si parlerebbe di intervento coraggioso grazie presidente grazie allora io non sono un tecnico matematico ma due minuti per la dichiarazione di voto allora chi vuole ancora parlare la maggioranza la dichiarazione l'ha già fatta consiglio somaglia prego sarò sarò rapido intanto perché una una delle domande che avevo posto io a cui il sindaco ha cercato di dare una risposta però la risposta non è arrivata perché è stato detto vari terreni però quali perché quali sono le motivazioni per cui gli altri siti non siano stati presi in considerazione fino in fondo detto questo detto questo e visto che i ripensamenti che sono stati chiesti e viste le motivazioni che abbiamo cercato di spiegare questa sera e ripeto ancora una volta con rammarico perché come ricordavo prima gran parte dei nostri voti negli anni in cui abbiamo partecipato a questo consiglio comunale quando si è trattato di dibattere di decidere delle delle opere che esse siano opere pubbliche o comunque delle varianti di piano regolatore importanti e soprattutto che dessero una visione diversa della nostra città siamo stati partecipi abbiamo portato il nostro contributo e per la maggior parte delle volte abbiamo anche votato positivamente questa sera il nostro voto non può che essere contrario grazie grazie al consigliere Somalia raccogliamo eventuali altre sì grazie ma abbiamo detto tutto questa sera quindi non mi dilungherò nei miei cinque minuti a disposizione anzi forse me ne basteranno solo un paio ho sentito prima l'intervento del sindaco e non fa che aumentare i miei dubbi nel senso che l'ho detto all'inizio del mio primo intervento e lo ribadisco adesso non ci è stato spiegato né stasera né nelle commissioni congiunte a cui abbiamo partecipato il perché altri siti non sono stati presi in considerazione sì si dice che questo è il sito in cui si è più vicini al centro si è più vicini alla biblioteca ma gli altri perché sono stati scartati a priori noi non lo sappiamo noi questa sera veniamo abbiamo un pacchetto preconfezionato un prendere o lasciare qualunque cosa diciamo questa sera tanto ormai la decisione è presa e quindi non possiamo altro che votare favorevolmente o votare contro ma quel no votare contro e quindi faccio già la mia dichiarazione di voto che sarà contraria a questa delibera non nasce e lo ripeto per l'ennesima volta a costo di sembrare ed essere noioso non nasce da un punto di vista ideologico e politico nasce da considerazioni che effettivamente lasciano il tempo che trovano perché chiunque oggi parli con un cittadino breidese e non non necessitava pagare mobiliter per sapere queste cose bastava chiedere a chiunque dei nostri concittadini che quella è la posizione in cui si vorrà ubicare la scuola e come ho già detto in una delle commissioni passate spesso e volentieri quando parli soprattutto con i signori più anziani in buon piemontese ti dicono ma su nemot perché questa è l'idea che i cittadini braidesi oggi hanno e guardate che noi oggi questa sera abbiamo cercato veramente di essere propositivi ma se avessimo voluto fare una butade ideologica e politica avremmo potuto fare i nostri interventi tranquillamente sfruttando questi argomenti poi nella imminente campagna elettorale non lo abbiamo fatto noi questa sera vorremmo essere qui per cercare di dire la nostra se fosse ancora possibile intervenire capiamo che non lo è perché dalle parole di chi mi ha preceduto la decisione è presa era presa tre anni fa non è stato informato il consiglio comunale o almeno i consiglieri di minoranza lo hanno saputo pochi mesi fa e in questi mesi si sono trovati un vestito confezionato a cui aderire o meno spero di non annoiarla al presidente ma vedo vedevo le espressioni del suo viso chiedo scusa penso sia ancora libero di guardare il suo scritto senza per questo dare impressione con la mimica di commentare e io infatti ho detto o avevo la speranza di non annoiarla semplicemente questo quindi al termine di tutta questa discussione non posso che continuare a pensare quelle che sono state le nostre idee fin dal primo minuto e quindi anche il mio voto questa sera sarà negativo grazie grazie a lei se non ci sono più interventi si pone in votazione panero prego grazie presidente anche io vorrei esordire con una frase d'effetto ma quello che voglio dire è che concordo in pieno e come gruppo concordiamo in pieno e mi ha fatto veramente piacere sentire l'intervento del consigliere Cornaglia che devo dire non ha parlato tanto in questi anni in questa consigliatura ma tutte le volte che l'ha fatto devo dire veramente che ha contribuito col suo punto di vista che era sempre un punto di vista sicuramente condivisibile noi condividiamo a pieno il punto di vista della visione della città e della visione di quello che è il servizio scolastico della città ma chi potrebbe dire diversamente in quest'Aula chi potrebbe dire che non vuole finire il monopolio delle auto in questa città la differenza però sta nel raggiungere quell'obiettivo percorrendo strade diverse l'obiettivo è comune ed è quello e penso che parlando con qualsiasi cittadino non può che essere quello solo che noi riteniamo che in questo momento si stia di nuovo percorrendo la strada sbagliata per arrivare all'obiettivo condiviso e giusto sono stati citati i paesi europei sicuramente nei paesi europei un intervento di questo tipo verrebbe gestito come noi intendiamo debba essere gestito cioè prima realizziamo tutte le opere ricuciamo la città le opere viarie poi quando tutte queste opere sono realizzate allora andiamo inserire il fabbricato in quella zona che sarà certamente idonea a sopportarlo però in questo momento bisogna essere franchi onesti e sinceri nel dire che purtroppo economicamente non ci sono le condizioni per poterlo fare questo non vuol dire che bisogna fermarsi qui sicuramente bisogna continuare a perseguire questi ideali e queste idee che sono nostre e sono di tutti però bisogna scontrarsi con con la realtà sono parecchie ore sono qualche ora che parliamo di questo argomento e vedo la difficoltà del presidente nel farci rispettare i tempi ma questo lo vedo un aspetto molto positivo per vuol dire che stiamo parlando di un argomento molto importante di un argomento condiviso io sicuramente più o meno e faccio mie e capisco tra virgolette lo sfogo del segretario qualche ora fa quando parla di luoghi comuni perché se il primo luogo comune purtroppo che non condivido è quello che i dipendenti pubblici non hanno voglia di lavorare il secondo è quello che gli amministratori barra politici sono qui solo per interessi personali sono qui solo per fare i propri interessi vorrei farli sentire questa discussione a queste persone noi siamo qui tutti e l'abbiamo dimostrato con spirito di collaborazione assolutamente con degli obiettivi comuni che sono quelli di far crescere la nostra città e farla crescere bene e farla crescere in modo sostenibile e penso che chiunque in questa sala in questo in questo consiglio la veda in questo modo siamo qui da ora a parlare perché vogliamo far crescere la nostra città perché amiamo la nostra città e vogliamo vederla crescere in modo sostenibile purtroppo ci dobbiamo scontrare con quello che è il momento storico nella quale viviamo dobbiamo scontrarci con quello che è il denaro e quindi la sostenibilità delle nostre idee anche noi lo facciamo con molto rammarico e spero che crediate le mie parole purtroppo non siamo nelle condizioni oggi per poter votare favorevolmente questa variante al piano regolatore siamo costretti perché per le motivazioni che ho già spiegato economiche non solo perché è vero che la maggioranza ha l'obbligo perché il ruolo della maggioranza l'ha deciso la popolazione è quello di amministrare quindi deve fare delle scelte ed è giusto che la maggioranza faccia delle scelte ma io credo che una maggioranza e non mi importa se siamo a sei mesi dall'elezione un anno o due penso che ci sia tempo fino all'ultimo secondo per prendere delle decisioni però credo che la maggioranza debba cercare che queste decisioni siano il più condivise possibile e purtroppo in questo momento per le motivazioni tecniche che ho espresso per le perplessità per io ho fatto una domanda finisco non mi è stata ma faccio anche l'espressione di voto poi non parlo più quindi ne tolgo uno non possiamo nessuno in questa sala oggi dire sì possiamo economicamente è fattibile realizzare tutte le opere insieme alla scuola non lo si può fare per queste motivazioni siamo costretti a votare non favorevolmente questa proposta di delibera grazie grazie mi pare che manchi un gruppo alle dichiarazioni di voto anzi due gruppi mancano ancora mancano due gruppi non è obbligatorio ovviamente consigliere maggiù prego sarò super veloce anch'io senza ribadire molto i punti dico che che personalmente la mia valutazione personale per motivi uno ambientali di vivibilità della città e per uno sviluppo lungimirante delle periferie e per il possibile rafforzamento di competenze tecniche sportive ai futuri giovani immagino a Lorenzoni scuole di calcio nuoto eccetera eccetera si poteva creare davvero un delle competenze nuove anche legate al mondo dello sport e poi in futuro chissà la pista da skate voto contro questa proposta grazie grazie consigliere allora non vedo più richieste consigliere l'asio prego e mi pare che sia l'ultimo intervento decurtato dai minuti grazie grazie presidente ma due minuti grazie ma allora io penso che la variante che ci viene proposta non sia condivisibile perché invece di andare verso la direzione della mobilità sostenibile per l'accesso alle scuole in realtà va nella direzione opposta perché non crea accessi sostenibili a una scuola e in una zona altamente inquinata e quando la zona è altamente inquinata dal punto di vista acustico dal traffico eccetera non invoglia l'accesso in altri modi mezzi alternativi non ci sono indicazioni sulla soluzione dei nodi della viabilità non è vero che si escluderebbe la dorsale di via Trento Trieste perché si arriverebbe proprio all'inizio della dorsale di via Trento Trieste e si entrerebbe in mezzo alla dorsale di via Trento Trieste quindi semplicemente aggrava il traffico e come leggevo prima secondo il DM del 75 e le linee guida ma anche di buon senso per costruire una nuova scuola è vicino a strade di grande traffico a strade ferrate a industrie rumorose dalle quali provengono esalazioni moleste o nocive e o nocive cioè è luogo inadatto per costruire una scuola tant'è che l'asilo nido io lo toglierei da lì perché è in una zona inadeguata non caricherei ancora con un'altra scuola quella zona in più la variante ha il problema che da un lato per i documenti che ci sono stati presentati e per le cose dichiarate vorrebbe anche buttare delle soluzioni per il nodo viario della zona ma in realtà queste cose non ci sono non ci sono le riflessioni non si riflettono né nei documenti né nella cartografia ed è veramente questa sì un'occasione sprecata quella di rivedere la soluzione della viabilità in questa zona nel momento in cui si discute la variante che riguarda proprio l'assetto urbanistico di questa zona io ovviamente per queste considerazioni dichiaro il mio voto contrario e penso e penso che visto che questa idea di una nuova scuola debba per forza coinvolgere il più possibile tutta la cittadinanza ribadisco la mia richiesta di ritirare questa proposta di delibera e di fare in modo che ci sia una discussione ampia non ha importanza se si supererà l'ambito di questa legislatura e andrà anche nella prossima legislatura per verificare effettivamente soluzioni alternative e confrontandole con questa sia dal punto di vista ambientale della mobilità ed economico grazie presidente grazie allora abbiamo esaurito prima del voto io devo chiedere ai componenti del consiglio di valutare eventuale incompatibilità dei presenti rispetto alla votazione eventualità incompatibilità eventuali che determinano l'obbligo di non prendervi parte ai sensi dell'articolo 45 del regolamento del consiglio comunale della nostra città nonché dell'articolo 78,2 del decreto legislativo 267 del 2000 e pertanto di uscire dall'aula nei casi in cui tali incompatibilità si verifichino questo io lo devo chiedere per ovvi motivi detto questo mettiamo in votazione la delibera numero 4 segnaliamo la presenza 17 presenti e si può votare votazione chiusa delibera approvata con 10 voti a favore e 7 voti contrari passiamo alla proposta numero 5 dodicesima variazione del bilancio di previsione sta stampando ratifica deliberazione giunta comunale numero 226 del 27 novembre 2018 relazione all'assessore Fogliato grazie presidente variazione ultima variazione di bilancio presentata nell'ultima commissione finanze e tributi è una variazione di bilancio molto articolata sia per quanto riguarda i capitoli movimentati sia anche gli importi direi così a grandi linee che si può dividere in due parti una prima parte che è quella meno articolata scusate il gioco di parole di articoli ma più corposa come importo riguarda i servizi sociali territoriali l'altra con minori importi in termini assoluti ma con diversi articoli movimentati riguarda direttamente i capitoli veri e propri del comune del comune di Bra ritengo che per la prima le spiegazioni le illustrazioni che sono fatte sul tema dove soprattutto nella parte iniziale della delibera dove si parla di considerazioni inerenti ai servizi sociali territoriali spiegano molto bene il perché di queste cifre alcune riguardano il primo semestre della gestione dei servizi territoriali ancora in capo come capofila l'ASE dove già per l'incasso dei contributi dei comuni sia per le funzioni socioassistenziali sia per l'assistenza dei minori sono state poi incamerate dal comune di Bra e vengono riceviti questa variazione di bilancio ma come uscita c'è anche l'impegno del comune di Bra per il maggior spesa per il personale in comando relativo ai servizi sociali territoriali inoltre con la chiusura definitiva al 30 giugno che è il passaggio del fondo Cassa ci sono il passaggio di alcuni contributi regionali che riguardano il centro famiglie il fondo contributo regionale sostiene lezioni difficili a vita indipendente e il contributo della fondazione Cassa Risparmio Torino per il progetto che riguarda gli anziani ecco questo è quanto riguarda le principali cose derivanti dalla chiusura inoltre mi chiedo scusa allora dopo chiedo scusa poi dopo vi è alcun incammeramento di fondi che riguardano il fondo cautelativo già contonato dall'AS per il desbito presunto verso la società Antares di circa 51 mila euro in quanto vi è ancora l'ultimo grado di giudizio penso che a breve si potrà svincolare il fondo regionale per il progetto dopo di noi e gli accantonamenti vincolati per la socio assistenza ecco tutti questi sono capitoli incammerati nel nostro bilancio ma che riguardano le varie chiusure dei servizi sociali territoriali per quanto riguarda invece gli altri servizi comunali specifici del nostro comune richiamo le principali voci anche per un certo significato principali voci richiamerei la donazione da una realtà privata di 20 mila euro destinati 10 mila euro all'emergenza farmaceutica e 10 mila euro all'emergenza abitativa un altro aspetto che sfiora i 10 mila euro per quanto riguarda l'integrazione per il pagamento del mutuo alla cassa depositi e prestiti questo perché i dati definitivi ci sono arrivati solo nel corrente anno una maggiore integrazione per alcune maggior necessità di spese per utenze telefoniche gas acqua e riscaldamento un incremento di 25 mila euro per le spese per la postalizzazione delle violazioni al codice della strada e l'intervento di 13 mila euro per la sistemazione del tetto alla colonia marina dell'Aigueglio a sebito della tromba d'aria questo per quanto riguarda le spese per quanto riguarda l'entrata abbiamo un utilizzo di avanzo di amministrazione vi rancò un residuo se vi ricordate l'avevo messo in evidenza nell'ultima l'ultimo consiglio comunale nella ratifica dell'ultima variazione di bilancio dove vi rancò un residuo per la parte investimenti di 13 mila euro che viene destinata a coprire l'intervento che dicevo prima per la colonia estremazione del tetto della colonia marina di L'Aigueglia vi è un introito da parte della fondazione cassa di risparmio di Cuneo di 17 mila 500 euro in quanto pagano l'acquisto dell'auto elettrica la facciamo noi ma con soldi derivanti dalla fondazione cassa di risparmio di Cuneo in ingresso i 20 mila euro che vi dicevo prima di donazione da una realtà privata del territorio braidese vi è un maggior introito derivante dal ricalcolo per l'anno 2018 l'avevo già anticipato nel precedente consiglio comunale dove a suo tempo avevamo iscritto a bilancio 315 mila euro derivanti dal ricalcolo degli anni fino al 31-12 2017 vi è stato ricalcolo del fondo di solidarietà per l'anno 2018 di 125 mila euro e questo ha permesso di azzerare totalmente i restanti 130 mila euro che avevamo ancora di onere di urbanizzazioni messi a parte corrente grazie all'assessore non mi pare ci siano interventi e pertanto seguiamo segnaliamo la presenza asteggiamo Ferrero Tripodi e Marengo quindi sono 13 va bene possiamo votare votazione chiusa delibera approvata con 8 voti a favore 4 contrari e 1 astenuto proseguiamo proposta numero 6 ricognizione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016 testo unico società partecipate illustra di nuovo l'assessore Fogliato grazie dopo la revisione straordinaria delle società partecipate che il consiglio approvò nel settembre 2017 il testo unico sulle società partecipate impone ogni anno entro il 31 dicembre una ricognizione ordinaria sulle partecipazioni dell'ente sulla scorta delle novità intervenute nel corso del 2018 e dell'adempimento alle disposizioni normative il quadro di ricognizione è al momento così delineato sono da considerarsi oggetto diffusione le partecipazioni in SIA l'ex consorzio San Michele Porrapaglia e in SIPI che confluiranno nella SISI l'avamo visto in un precedente consiglio comunale mentre è in liquidazione la partecipazione in fin grande S.P.A. dopo che l'assemblea della società ha posto in liquidazione la stessa lo scorso 31 luglio dalla partecipazione in fin grande il comune aveva già assunto formale disdetta nel gennaio scorso per effetto della complessiva situazione connessa col riordino del settore legato al ciclo idrico integrato si propone la messa in liquidazione della partecipazione nella società Tanaro Acqua e Servizi di cui Bra era socio con un simbolico 2% ma le cui competenze diventano analoghe a quelle che saranno esercitate dalla Sisi e la società è stata oggetto di azioni di liquidazione da parte dei principali comuni soci in tal modo la nostra ricognizione 2018 determina il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società Ente Turismo e STR Agenzia di Pollenzo quota dello 0,61% e Ingegea un'azione pari allo 0,000 161% del capitale grazie anche qui sì ci sono ci sono interventi prego consigliere all'Asia grazie presidente sarò molto breve ma allora per quanto riguarda questa riorganizzazione delle partecipazioni in questi anni una riorganizzazione c'è stata perché ci sono state delle dismissioni da partecipazioni alcune più o meno importanti alcune più importanti altre meno noi avevamo all'inizio al nostro primo bilancio abbiamo perorato l'uscita dall'enoteca del Roero che poi è stata effettivamente attuata l'anno successivo e poi ci sono state le uscite dalla fondazione Politeama eccetera ma per quanto riguarda questa riorganizzazione per questo riordino delle partecipazioni siamo favorevoli alla dismissione della società Tana Reacque e sinceramente riteniamo invece ma anche se è puramente simbolico siamo contrari al mantenimento della presenza azionaria in EGEA SPA perché la motivazione che viene posta per esempio nella proposta di delibera per il mantenimento della partecipazione e che così ci sarebbe modo di partecipare alle attività sociali ma la partecipazione è meno che simbolica in sostanza e non consentono a nostro avviso alcuna funzione dell'ente all'interno di EGEA e del suo gruppo una delle altre motivazioni è che EGEA attraverso il suo gruppo gestisce o ha il controllo azionario il controllo societario chiedo scusa di Brainergia che è il fornitore del servizio di teleriscaldamento cittadino ecco però a questo punto se veramente volessimo avere un ruolo attivo per un servizio che riguarda direttamente la città cioè il servizio di teleriscaldamento diciamo la partecipazione in EGEA non è certo il canale giusto tra l'altro c'è l'esempio anche di un comune vicino che è servito dal teleriscaldamento e ha una presenza azionaria in EGEA più importante eppure eppure anche lui non riesce a farsi sentire e a dare indirizzi societari di indirizzo perché la maggioranza assoluta è saldamente in mano alla famiglia detentrice della proprietà della società insomma è vero la partecipazione è simbolica ma è totalmente inutile e quindi noi saremo favorevoli a un'uscita anche dal punto di vista simbolico da una partecipazione di questo tipo grazie presidente grazie a lei allora non vedo altre richieste di intervento se non ci sono va giù prego naturalmente flash naturalmente anch'io su questo punto sono favorevole al primo sul secondo chiedo anch'io l'uscita da EGEA grazie va bene allora se non ci sono interventi si mette in votazione nel frattempo ci hanno raggiunto alcuni no siamo 14 mi pare 14 siamo 14 va bene allora se non ci sono interventi si mette in votazione segnaliamo la presenza si va bene si vota voteremo poi subito la D.E. votazione chiusa delibera approvata con nove voti favorevoli due contrari e tre astenuti passiamo adesso alla votazione dell'immediata eseguibilità va bene siamo 14 si può votare votazione chiusa 10 voti favorevoli 1 contrario e 3 astenuti prego consigliere Maju prego volevo dichiarare no all'immediata eseguibilità grazie proposto numero 7 sottoscrizione aumento di capitale della partecipata ente turismo Langhe Monferrato Eroero società consortive a responsabilità limitata approvazione illustre il vice sindaco Borrelli buonasera a tutti nel settembre scorso il consiglio comunale è stato chiamato a deliberare circa la trasformazione dell'ente turismo con l'allargamento del bacino della nostra TL anche ai comuni dell'astigiano e alla sua ridenominazione in ente turismo Langhe Monferrato Eroero senza tornare su quanto già detto allora neppure a riguardo della deliberazione appena approvata sulla ricognizione annuale delle società partecipate la proposta che presentiamo è legata all'opportunità di partecipare alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale della TL allo scopo di non alterare i rapporti di governanza e di equilibrio territoriale all'interno del nuovo ente come a voi già noto infatti una delle ragioni più qualificanti dell'operazione sta nel fatto che la regione Piemonte entrerà nel nuovo ente come socio e non più solo come soggetto finanziatore assumendo la nuova veste la contribuzione annuale della regione si concretizzerà non più sotto forma di sostegno ma come vera e propria con partecipazione alle spese dell'ente creando un impegno diretto nel finanziamento del nostro ente di promozione con benefici sia nella certezza del finanziamento sia nelle tempistiche di erogazione come ha già avuto modo di illustrare compiutamente e dettagliatamente anche il presidente della TL Barbero nel corso della commissione finanze e tributi nella quale si è trattato questo argomento l'investimento che andremo a effettuare è modesto finanziariamente pare a 1.800 euro e non andrà ad alterare il nostro livello di contribuzione all'interno della società rispetto a quanto speso quest'anno lo ricordo 84.000 euro di quota annuale più il 50% del gedito anno degli imposti soggiorno per un totale di circa 127.465 euro versati nel 2018 a fronte di 127.200 previsti nella quota anno 2019 al contrario andremo a mantenere un ruolo di primo piano nella gestione societaria pure in presenza di una compagine territoriale più ampia che darà ancora maggiore forza a una delle agenzie turistiche di riferimento per l'intero Piemonte risultato questo frutto della capacità e della competenza di chi vi opera e di chi vi lavora certamente ma che deriva pure dal sostegno di soci pubblici e privati che hanno scommesso e credo di uno strumento di venuto centrale come volano di sviluppo in uno dei settori cardine della nostra offerta economica attraverso questa operazione manterremo una quota dell'8% del capitale pari a quello sottoscritto dal comune di Alba e con una composizione sociale che vedrà sempre l'ex area di Langeroero come socio di maggioranza relativa con quote che complessivamente rappresenteranno circa la metà del capitale della TL la regione Piemonte al 37,59 del territorio astigiano poco sopra il 15% ricordo anche che la proposta che sottoponiamo al consiglio è già stata esaminata anche dal collegio delle edizioni dei conti che ha fornito il proprio parere positivo grazie grazie all'assessore Borrelli consigliere Allasia prego grazie presidente ma allora su questa proposta di delibera la mia perplessità non è sull'aumento di capitale del passaggio diciamo dell'unione delle due ATL ma è sul ragionamento a livello regionale che si sta facendo perché questo finanziamento certo di cui si parla può avere le conseguenze che si stabilisca un limite al finanziamento senza badare la bontà progettuale cioè in pratica questo ingresso nella società di tutte le ATL in Piemonte stabilirebbe un tot da dare ogni anno senza andare a premiare o decidere con strategia a livello regionale di premiare diversi territori o per obiettivi a livello territoriale l'alta perplessità invece riguarda l'assetto societario perché il comune di Alba rispetto a a quanto c'era stato detto a voce perché hanno variato loro le cose in corsa e rispetto a quello che diceva adesso l'assessore ha deciso di limitare l'intervento in termini di azioni cioè non aderisce come nel nostro caso per la quota prevista di capitale sociale e quindi la domanda è dal punto di vista dell'assetto societario la maggioranza assoluta che era prevista non dovrebbe più esserci cioè quello spazio vuoto adesso lasciato da Alba che è di circa mi pare l'8-9% è vero che c'è ancora un anno di tempo per definire eventuali altri ingressi ma che fine fa e che garanzie ci sarebbero a questo punto per mantenere visto la forza di partenza tra l'ATL nostra e quella stigiana diciamo un controllo importante a livello di ATL grazie grazie può rispondere l'assessore prego allora rispetto alla questione del riconoscimento sul territorio rispetto all'ATL mi sento di tranquillizzarla nel senso che come ATL credo che in questi anni la regione ha riconosciuto un importante valore del lavoro fatto ed è stato proprio oggetto anche della riorganizzazione come elemento da copiare rispetto ad altre realtà quindi credo che da questo punto di vista seppur posso condividere con lei la perplessità rispetto al fatto che si possa magari limitare la possibilità di ottenere dei finanziamenti su obiettivi o su progetti specifici credo che però avere la certezza da subito da inizio anno di avere una contribuzione certa da parte della regione ti metti in una condizione di tranquillità per poter dar seguito alle iniziative che durante l'anno devi portare avanti invece oggi questa contribuzione arrivava ad anno in corso e magari anche a fine anno e questa cosa qui magari ti impediva di osare anche un po' di più rispetto agli obiettivi che la Tl stessa poteva darsi per quanto riguarda invece la questione che riguarda la parte non sottoscritta da Alba fermo restando che abbiamo un anno di tempo ancora per colmare questa cosa proprio mezz'ora fa mi ha telefonato Barbero per dirmi che comunque la sottoscrizione da parte di altri enti e altri soggetti del territorio sta andando molto bene e quindi quella parte potrebbe essere colmata da altri soggetti sempre di questo territorio che salvaguarderebbe a quel punto la cosa che diceva lei della maggioranza rispetto alle quote che rimarrebbero in capo a questo territorio grazie 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 mille grazie il vice sindaco consigliere Maggiù prego diciamo che su questo punto si è fatto molto si è fatto molto si è fatto molto e penso che è una cosa che fa piacere vedere che il 25 ottobre è stato pubblicato l'agenda di Lonely Planet e ha inserito il Piemonte come la regione più bella al mondo da visitare e in questo era riportato molto i nostri posti le Langhe Barbaresco fra cui Cise fra cui la fiera del Tartufu di Alba insomma secondo me è importantissimo unire le forze quindi averlo avere un'idea più ampia piuttosto che locale non farà altro che portare benefici assolutamente al territorio nel suo insieme quindi penso che sia una cosa positiva che mi sento di votare a favore grazie grazie a lei consigliere Somaglia poi Tripodi prego consigliere Somaglia grazie presidente come già avevamo fatto nei mesi scorsi quando è stata presentata la nuova organizzazione dell'ATL quindi accorpando il territorio astogiano che con forza ha voluto unirsi a questo territorio che ha dimostrato negli anni di avere capacità a parte le risorse naturali straordinarie che ci premiano dal punto di vista dell'afflusso turistico ecco anche in questo caso il nostro voto sarà un voto favorevole intanto perché Bra mantiene la propria quota le parole le ultime parole dell'assessore che rassicurano anche rispetto alla quota che rimaneva libera per la mancata partecipazione di Alba alla sottoscrizione totale dell'aumento di capitale il fatto che altri enti di questo territorio abbiano siano in itinere di sottoscrivere le quote mancanti accresce ancora di più la nostra convinzione nella bontà di questa delibera ma soprattutto nella bontà del lavoro che è stato fatto negli anni dalla dall'atl e colgo l'occasione per ringraziare il dottor Barbero per l'opera che in questi anni ha messo a disposizione del territorio e con abbiamo preso nelle scorse riunioni con piacere che il mandato del dottor Barbero continuerà anche per i periodi prossimi quindi nella consapevolezza che il lavoro è stato eccellente si continuerà su questa strada con la lettura dei dati dei flussi turistici e sulle previsioni che dicono che quantomeno per i prossimi 10-15 anni il nostro territorio parlando dalla Langa in primis ma anche il nostro territorio sarà ancora beneficiato da flussi turistici comunque in crescita il il plauso per lavoro fatto dall'ente turismo non può che trovarci favorevoli grazie grazie a lei consigliere Sommaglia prego consigliere Tripodi grazie presidente sicuramente ci uniamo al parere favorevole di questa di questa delibera ci complimentiamo per il lavoro svolto in questi anni dall'ATL e dal presidente dal suo presidente Barbero che appunto ha avuto la propria riconferma a capo di questa importante di questa importante organizzazione importante organizzazione quanto è importante ad oggi il turismo nuovo motore di sviluppo non tanto nuovo forse ritrovato forse un motore dove veramente il nostro territorio deve essere grato sia per come diceva il consigliere sommaglia per le proprie risorse naturali ma tutte quelle organizzazioni che fanno sì e hanno fatto sì che il nostro territorio possa essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale per l'enogastronomia e quant'altro abbiamo di fronte a noi una bella una bella scommessa che dobbiamo come come ATL ma come enti fare in modo che il più possibile il nostro territorio sfrutti questo andamento positivo e favorevole per quanto riguarda il turismo quindi spero speriamo ovviamente che forti saranno le azioni di quello che potrà essere una forza veramente propulsiva motrice che è quella dell'azione di incoming quindi di fare in modo che i turisti possano essere attratti con pacchetti con strutture pronte ad accogliere questo turismo che è sempre di più internazionale vedete guarda io avendo soltanto 30 anni ma sto vedendo una modifica forte spesso e volentieri eravamo noi braidesi ad andare in altre parti in altre parti della città in altre parti d'Italia o comunque all'estero e sempre più spesso e volentieri invece sento persone che da altre parti d'Italia mi chiedono ma cosa c'è lì ma sai ho visto sai ho sentito quindi è un momento è un momento veramente da sfruttare che possa veramente essere a sostegno per il nostro sviluppo e per creare quello che poi è la cosa fondamentale nuovi posti di lavoro sia per i giovani ma non soltanto anche magari riqualificare zone del nostro territorio e soprattutto dar modo di far fiorire la vera bellezza dei nostri territori quindi io sono siamo convinti che il lavoro del presidente ma comunque di tutta l'ATL e di tutti gli enti che hanno scommesso su questa organizzazione possa essere positivo positivo è stata anche la scelta di mantenere una certa diciamo barriera all'entrata che non espandesse più di troppo il territorio partecipante a questo ente per il semplice fatto che si sarebbero stati anche motivi diciamo di troppa troppa va bene che l'unione fa la forza ma dobbiamo saper darci dei confini credo siamo consapevoli del fatto che l'entrata della regione potrà essere un grande importante sostegno e una forte sicurezza per quello che saranno i progetti che porterà avanti la TL quindi voterevo favorevolmente a questa delibera grazie grazie consigliere ha chiesto la parola il sindaco prego soltanto per una considerazione che intanto sono usciti i dati dei 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 raffronti dal 2014 al 2017 vi è un aumento del 25% di presenze nella città di Bra nella città di Bra e io credo che debba ringraziare l'assessore Borrelli per il grosso lavoro che fa all'interno della TL noi in questi anni in questi nove anni abbiamo mantenuto la governance braidese condivisa discussa confrontata eccetera ma per nove anni abbiamo mantenuto la governance braidese e questo è un elemento che non avveniva dall'inizio della nascita dell'Ede Turismo credo che sia certamente merito del presidente ma anche merito di chi sa nei momenti giusti porre intervenire e difendere le proprie posizioni grazie grazie al sindaco bene se consigliere ferreo prego ma solo per dichiarazione di voto nel senso che per tutte le motivazioni che è espresso all'inizio del vice sindaco e poi al termine del sindaco come maggioranza speriamo il parere favorevole grazie ci fa piacere che Barbero continui a fare rima con Roero il nome di Bra non c'è più nel logo ma è rimasto Barbero anagrammando Barbero viene anche fuori un pezzo di Bra orbe Bra Bra il mondo di Bra questo vabbè abbiate pazienza dopo questo possiamo votare ma è l'ora che anzi è il timore dello slittamento a domani mattina che mi fa questi strani scherzi reagisco in questo modo va bene possiamo votare allora se non ci sono più consigliere all'asia prego grazie presidente ma diciamo non mi rassicura tanto sempre la questione della regione ma sul fatto della fusione abbiamo già votato a favore tre mesi fa mi pare e la la presenza all'interno dell'ATL è quella che diciamo ci è stata descritta e che serve a mantenere un piede importante dentro l'ATL ho visto i dati dal 2014 al 2017 dell'ATL di Asti che ha fatto risultati anche piuttosto più alti della nostra ATL nonostante abbia dei livelli di presenza in sostanza alla metà quindi ovviamente variazioni in termini assoluti di presenze danno valori percentuali più alti ma questo è un fatto importante penso perché la sinergia quindi la crescita che c'è il trend di crescita che c'è anche in quel territorio serve rafforzare questo trend di crescita e viceversa da questo punto di vista qui lo vedo positivo mi congratulo per il 25% ma una cosa negativa la devo dire in realtà mi congratulo per il 25% ma è la media dell'ATL quindi in sostanza non è che la nostra città abbia fatto meglio del territorio in generale tutto il territorio è salito allo stesso modo quindi non c'è nulla di particolarmente non c'è niente di cui particolarmente calma calma signori se volete intervenire intervenite non è un problema questo perché se uno dice complimenti però i complimenti si fanno anche giustamente ci vogliono delle ragioni forti io non discuto il lavoro dell'assessore Borrelli sulla questione ma non è che c'è quel risultato eccezionale fuori dalla media dell'ATL tra l'altro notavo anche che i risultati a livello regionale danno un trend dello stesso tipo questo vuol dire che molto si è fatto e sicuramente molto c'è da fare in questo momento c'è molto legame del turismo sul linee gastronomico e manca soprattutto per esempio per il territorio albese manca a mio avviso e penso che sia uno degli obiettivi che si stia ponendo l'ATL affiancare a questo tipo di turismo altre occasioni di turismo cioè far scoprire quello che c'è di diverso nel nostro territorio rispetto agli altri territori al di là sempre io dico del solito ma dello scontato tra virgolette il discorso del non gastronomico grazie grazie possiamo allora mettere in votazione ci sarà la die mi pare che siamo in quindici sono assenti Astegiano e Marengo sì ancora uno va bene tutti prenotati possiamo votare votazione chiusa all'unanimità quindici su quindici passiamo adesso a votare l'immediata eseguibilità ancora uno va bene votiamo ne manca uno chi manca forse il sindaco sindaco mancava il voto votazione chiusa come sopra quindici unanimità allora con la proposta numero 8 la lunga serie di delibere dedicate al bilancio di previsione tutti collegate penso di poter dire come ma no no le votazioni no ci mancherebbe ma penso di mantenere la tradizione degli anni scorsi in cui la discussione è una sola e poi ovviamente le votazioni sono aveva chiesto la parola il consigliere all'Asia prego volevo porre una questione noi abbiamo insieme ai gruppi chiedo scusa insieme ai consiglieri Tripodi e Panero abbiamo fatto una richiesta di spostamento di questi punti dell'ordine del giorno e per le motivazioni che a nostro avviso mancava un giorno per il rispetto del regolamento di contabilità per poter discutere di queste delibere la risposta che è arrivata dall'avvocato mi spiace ma non ho avuto tempo comunque la scriverò scriverò una controreplica perché a nostro avviso e almeno a mio avviso chiedo scusa riteniamo che le motivazioni apportate dall'avvocato non siano non centrino con la richiesta che abbiamo fatto noi perché non porta nessun argomento legislativo ma semplicemente fa un paragone con parole scritte nei due diversi regolamenti ma così come abbiamo detto chiedendo più volte di rinviare l'approvazione di queste scusate la discussione di queste delibere c'è un altro fatto che secondo me può borre sotto pericolo di nullità le discussioni le eventuali delibere di oggi e che non c'è solo la questione del giorno in più o del giorno in meno e che non tutti i documenti comunque sono stati consegnati ai consiglieri entro il 30 novembre tra questi cito ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 118 2011 la relazione del collegio dei revisori dei conti che ci è giunta il 7 dicembre e invece ancora più probante perché riguarda una parte consistente della voce di bilancio ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 267 del 2000 cioè il cosiddetto 2 tutte le deliberazioni riguardanti le tariffe per i servizi locali in quanto il piano finanziario Tari e le deliberazioni riferite alle tariffe della Tari ci sono arrivate solo con la convocazione del consiglio io penso che al di là del giorno in più o un giorno in meno i tempi il rispetto dei tempi per quanto riguarda il consiglio per poter valutare e studiare gli schemi di bilancio e quindi dare il proprio contributo con la proposta di emendamenti sia un tempo sacro da rispettare senza tanti giri di parole e se c'è un problema di interpretazione sul regolamento a parte che per me l'italiano è chiarissimo perché 20 giorni decorsi vuol dire che 20 giorni devono trascorrere e va da sé che i giorni sono interi non esistono le mezze giornate ai sensi dell'articolo 155 del codice civile dell'articolo 2963 del codice di procedura penale civile chiedo scusa ha senso andare verso la tutela del lavoro del consiglio quindi garantire i 20 giorni in questo caso gli sforamenti visto la non completezza dei documenti è ben ulteriore è ben superiore al giorno quindi io chiedo di considerare lo spostamento della delibera della discussione sulla delibera del bilancio di previsione a un'altra data così come avevo proposto più volte insieme anche agli altri consiglieri della minoranza a partire perlomeno dal 27 dicembre in avanti per dare il giusto tempo al consiglio di esaminare con calma con calma con i tempi dovuti i minimi tempi dovuti lo schema di bilancio e quindi poter affrontare la discussione grazie ha chiesto la parola anche il consigliere Panero prego sì grazie presidente prima della replica che ci sarà noi siamo stati citati in causa abbiamo firmato questo documento e l'abbiamo fatto e vorremmo che fosse chiara non tanto per star qui e discutere sul giorno in più o il giorno in meno ma quello ci sono dei regolamenti e come c'è sempre stato detto i regolamenti vanno rispettati noi abbiamo firmato questo documento perché l'abbiamo fatto ogni anno e arriviamo a constatarlo anche nell'ultimo anno e nell'ultimo bilancio allora noi ricopriamo un ruolo di consiglieri di minoranza di opposizione e noi non abbiamo tra virgolette gli strumenti che può avere un consigliere di maggioranza o comunque ricopriamo un ruolo che ci obbliga a fare particolare attenzione non dico che i consiglieri di maggioranza non lo facciano ma per il ruolo che ricopriamo ci obbliga a dover richiedere e avere un po' di tempo in più per esaminare la documentazione abbiamo firmato questa richiesta ripeto non per venti un giorno in più un giorno in meno l'abbiamo fatto perché eravamo consapevoli che stavamo affrontando un consiglio comunale con 18 punti dell'ordine del giorno comunque un consiglio comunale con una variante al piano regolatore che lo sapevamo già da prima che avrebbe portato via grande tempo e ripeto se si sta in questa sala a parlare di queste cose stiamo anche fino a domani mattina siamo siamo favorevoli a star qui a discutere dobbiamo poterlo fare però preparati perché se no veniamo qui a dire mezze le cose c'è un documento di 172 pagine io l'ho visto l'ho letto c'era una variante al piano regolatore c'è un bilancio ci sono 18 punti all'ordine del giorno quindi abbiamo aderito la firma di questo documento come una forma di l'abbiamo già fatto altre volte passatemi il termine di lamentela per aver di nuovo avuto i giorni contati per poter per poter in questo caso consideriamo poi ripetere non è il giorno più il giorno meno contati in maniera stretta per poter svolgere il ruolo che i cittadini hanno voluto che noi in questa sede venissimo a ricoprire e vorrei che questo fosse molto chiaro poi questa maggioranza è fortunata perché ha comunque un'opposizione che anche con i giorni giusti si è impegnata anche con i giorni che ci sono stati concessi tolgo giusti si è impegnata ugualmente ha passato le serate barra non voglio dire nottate a studiare i documenti ed è arrivata in questa sede preparata come pensa che un consigliere debba essere per poter venire qua in serenità a poter compiere il proprio lavoro chiedevamo solo di poterlo fare e di poter avere da parte di questa maggioranza arriviamo all'ultimo bilancio ma non è successo solo in caso di bilanci avendolo dovuto fare diciamo con l'acqua alla gola grazie grazie consigliere Marengo Sommaglia che scusa perché mi frega sempre consigliere Marengo è del gruppo con Sommaglia per bra no ma è quello che fa scattare questa fa parte del gruppo Sommaglia fa parte con vabbè prego ho posseggo dei gruppi eh sì adesso allora noi siamo tra i gruppi di minoranza che non abbiamo fermato il documento presentato dai colleghi non entro nel merito della tempistica che ci consenta di prepararci o meno al consiglio io ho letto spero attentamente tutto il dupe che sono centosettanta pagine e l'ho fatto convintamente perché ritengo che per svolgere bene questo ruolo bisogna essere informati però però adesso mi viene un dubbio cioè o veramente abbiamo la certezza la scorsa settimana in conferenza in commissione finanze ci sono stati date delle spiegazioni dei chiarimenti puntuali da parte dell'assessore del dirigente e non abbiamo visionato il documento dell'avvocato ma ci è stato detto che è stato chiesto un parere a un legale allora noi di questo ci fidiamo fino a prova contraria non abbiamo la competenza per poter dare un giudizio giuridicamente compiuto però oggi prima di esprimere il nostro voto sull'elaborato che ci è stato presentato vorremmo avere la certezza diciamo se così la possiamo definire di approvare un documento che abbia i criteri corretti per essere posto in votazione grazie grazie allora permettetemi una piccola cronistoria veloce una ricognizione poi lascio la parola al dottor Grillo responsabile dirigente responsabile del servizio finanziario allora io il 13 con nota protocollata in data 13 ho ricevuto la richiesta dei consiglieri Panero Tripodi e Dallasia sugli argomenti che testè il consigliere Dallasia ha riassunto per la verità ancora prima di ricevere questa richiesta nelle commissioni consigliari nella commissione consigliare finanze e tributi il dottor Grillo rispondendo ad una preoccupazione già di questo tipo espressa